Ha arrestato, ha arrestato, non ho arrestato Ha arrestato, sì Ha arrestato tutti L'altro è sopra Uè, voglio Uè, voglio C'è successo A posto Ah, ma dovreste sentire, gà, eh Dovrei aver risolto il problema Eccomi Ma buonasera Ma buonasera Azz, la prima a scrivere Ma buonasera Anna, poi chi c'è? No, Bebs, no No, Bebs, no No, Bebs, no Buonasera, Pietro Ora si sente, no, l'audio? È intornato Bella, ragazzi Buonasera a tutti Daie, daie Si parte con la win subito La prima partita Buonasera, Danilo Buonasera a tutti Due giorni senza di te Lo so, lo so I know, I know, bro I know, bro I know Ma io vorrei andare In vacanza Sinceramente Non sono stati due giorni In cui ho lavorato ad altro Non ci sono stato Ma non sono stato Manco in vacanza In realtà Sono sempre stato qua A lavorare A fare delle cose C'ho un po' di lavoro Da fare anche con la musica Complimenti per la qualificazione Mi sono perso qualcosa Aspetta Sta arrivando anche Tramonte Ha detto che Vabbè fammi un'altra Mentre arriva Tramonte No, aspetta Aspetta Mi sono perso qualcosa Fammi leggere Fammi leggere No, non me so qualificato Sarebbe bello Sarebbe bello Ma non mi sono qualificato Purtroppo Passavano i primi 40 Su 1800 Siamo arrivati Cento Poi sta già andata classifica In realtà Centocinquantanovesimi Ci hanno levato due posizioni Vabbè Capirai Mo 157 159 Stammo là No, passavano i primi 40 Purtroppo non siamo passati Ma se vuoi Se ci sei adesso Puoi venire anche mo' Un posto ce l'ho Siamo in tre Un posto ce l'ho Ti vieni a fare Due partitelle Ah, è arrivato il buttafuori Finalmente Oh, ma si è tutto Tramonte 10 minuti e sono Ok, ok Ti sentiamo ora Sì, sarà buggato un attimo Ragazzi Non so perché Se era successa una roba Vabbè Ho dovuto riavviare tutto E' andato Bella, Paolo Ah dai Poi ci sarà occasione Qualc'altro giorno Che Che organizzo Lo facciamo Allora Ho preso il controller Controller digitale Ehm Quale Quale è preso Quale è preso Che controller è preso Bebs Ce n'ho una per te Stasera so io Quello che te la dici a te Alla, Samu Allora Vabbè Siamo due Eh, vabbè Proviamoci in due Sti cavoli Dopo le Dopo le World Series Le qualificazioni Dove giocavo io Contro tre Ormai Senti Bebs Ce n'ho una per te Cosa dice Un dino Ad un altro dino Stasera Ti faccio io Stasera No, preso Troppo Troppo Vado a hit quarter Bella amici Buonasera a tutti ragazzi Dopo leggo anche Messo di Alessandro Eh, pure qua Regà Ma che è No, non ci credo No, no Non ci vuoi No, vabbè Una barzalletta Cosa è successo qua? Ma va Aggiungimi due Aggiungimi due Un desclamativo ID in chat No, no, no No, una barzalletta ragazzi Non è vero Cioè Quello mi vuole prendere a cazzotti E è uscita la mossa finale Va bene E Se ci sta a posto Quando è? Oggi è mercoledì O domani O anche stasera Se ci sei adesso O anche adesso Eh, anche stasera Il stream rate Però lo scaff crime Si è superiore Secondo me E se è riuscito a montarlo Va bene Penso funzioni, no? No, io uso scaffa Ma ve lo sconsiglio Eh, si rompono subito Poi Ci sta Officina del pad Che fa Sennò i pad Qui in Italia Meglio di IMS Caffe Però il prezzo Bene o male È quello Diciamo che se avete bisogno Solo dei tastini sotto E non volete altre cose Ma va bene anche altro Oh bro Però mi ha detto che sono one shot Non sono one shot Zio Stiamo due controquartetti È giusto per ricordare La barzelletta va bene Ti prego non raccontare barzellette E puscia ridere a crepapelle Ridere a crepapelle Ridere a crepapelle Mi aspettavi che uscissi a destra Vero? E invece sono uscito di qua Zio Sono uscito di qua Zio Ok, non te l'aspettavi? Ah, mi ha chiamato che sono one shot Zio Porco Non avevo i colpi Della mitraglietta Zio Non avevo i colpi Bro Grazie per le 100 stelle Gioele Pezzo di un Gioele Secondo me Se ti abito in presa club È più economico Ah, vabbè Se vuoi risparmiare soldi Però dopo ti ammazzi le dita Te lo dico C'è stato amico mio Che fortissimo Di KD350 Che mi sei rotto Con i tasti sotto Stato rigiocando in clou Ha detto C'ho C'ho le dita che A pezzi proprio Mi fanno malissimo Perché comunque A giocare ore e ore Così ti distruggi Grazie per le 100 stelle Bro Comunque non mi ha risposto Comunque un dino Un altro dino Dice Giochiamo a nascondino E non mi dissocio Debbero le piastre Ma uavino Lo tiro Mannaggia A te zio No te lo devi tu Bella questa Meglio di niente No Mannaggia i daini No Con cosa sono morto Zio No Col mio bombarda Non ci voglio credere L'ho messo pure a terra Mi sa che mi ha preso Il mio bombarda Mi ha preso Alla Chi va bene La prima vinta La seconda è finita così Eravamo in due Peccato Sta arrivando tramonte Invita Eccolo è arrivato E quando c'è tramonte Finisce la partita Te l'ho inviata Come ti Eh Auguri Sono 20 richieste qua Ma qual è Ah vabbè Aspetta che c'ho uno Re prince Chissà chi è Sarà sicuramente Campione del mondo Ehm Vediamo un attimo tramontino Poveretto Dov'è Eccolo Ha cambiato nome in giù Un jujitsu Ha cambiato Vabbè lo sa solo lui perché Cioè in realtà l'ha spiegato Però vabbè Uè pronto Pronto Buonasera Uè Ma come te chiami qua Ah giusto 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 Ehm Però non ci sei Secondo me devo togliere qualche richiesta Mike Salsiccia Ma posso mai accettare Mike Salsiccia Tra gli amici Dai mi distorcio Proprio Ah ecco qua Ma Mike Però ho scritto in inglese Giustamente Così si confonde Però è sempre Mike Salsiccia Resta Fatti più in là Ehm Sto acquistando PS5 No aspetta Sto acquistando PS5 Tu con il pad Cosa consigli Officino Scaf No Officina Tutta la vita Fra Questo te costa Questo qua Te costa 300 euro E tra l'altro Non Cioè se si rompe È finita Perché lo devi rimandare In Inghilterra Invece Officina del pad Fa gli stessi pad Addirittura Gli analogici Sono anche migliori Perché l'ho provato Ce l'ho a casa Ehm Aspetta Aspetta No fra Il quarto posto Ce l'ho già Mi serve Ah Sti cazzi Aspetta Non sapevo Boh L'ho invitato Allora Te l'ho inviata Soctiva Ancora ho sbagliato No 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 A me è arrivato L'ho accettato Solo che Ci vuole un po' Per caricare Che non ti riesco a invita Dammi un attimo Che modo invito Allora Cosa ha detto Alessandro Mo te leggo bro Dammi un attimo Devo invitare Ma perché non mi compare online Aspetta Ah ecco qua Vai invitata Allora Lupo buonasera Ieri Savi giocava su Verdask Che è stato A cui dicevo che era No no Allora praticamente Ti spiego Ma salve Buonasera Buonasera Allora Siamo carichi Siamo carichi Andiamo a vincere La prima partita L'abbiamo vinta Carichissimo Carichissimo Samurai a caricare la palla Tramonte Vabbè Tramonte ormai A come ne viene Insomma A come ne viene Vediamo Io Voglio Anin Voglio Assolutamente Mi fai più kill Di tramonte Così dopo lo posso Prendere in giro Vabbè Allora Buonasera Ieri Savi giocava Aspetta Adesso ti spiego Stannetto Praticamente Che è successo Ieri i server Di Calluditi Non andavano Erano tutti offline Allora Non c'era da che Streammare Ho visto che all'inizio Hanno giocato un po' Fall Guys Però comunque Fall Guys Che ti fai Due tre partite Quattro partite Un po' Comunque Scoccia Quindi avranno Rimesso qualche vecchia live Perché ho visto Qualche streamer L'ha fatto Ha rimesso qualche vecchia live Di Verdask Semplicemente questo Non lo so sta roba Poi non ho seguito tutto Io ho visto che C'erano altri streamer Che essendo che Non andavano in server Avevano messo Qualche partita vecchia E la commentavano Mentre la facevano vedere Avevano fatto questo Poi non so altro Perché poi Non ho più guardato Lupo sai che le galline Lupo sai Aspetta Questa la leggo pure a voi Lupo sai che le galline Quando si salutano Dicono Ci becchiamo domani Madonna Madonna mia Madonna mia No io non ti leggo più Fra Basta Trigger digitale Lupo Tassi digitale Non oggi Indecampiabile Montato su pad PS5 Fa paura Montato alla perfezione Buono Sono fondamentali Buona sera Che ne pensate Che ne pensate il 16 novembre Ufficiale Questo manco in volo Dicevo è ufficiale Il 16 novembre Dovrebbe tornare Cioè no Dovrebbe tornare Dovrebbe uscire Warzone 2 Dovrebbe essere ufficiale Il 16 novembre Regà Siamo vicini Però molti dicevano A gennaio Invece hanno anticipato Mi sa il 16 novembre Il 28 Esce il gioco nuovo Il 16 novembre Dovrebbe uscire Warzone 2 E' finita E' finita Perdo la vita sociale Quando il 16 novembre Se esce Warzone 2 Nuovemente Vesta Minchè se tragiardano Che è sto rumore? Allora Sì Potrebbe anche accadere Che alla fine Poi rinviano Io spero di no Potrebbe succedere Che rinviano Ma spero di no Dai dai Eccomi Eccomi Allora Lupo Buonasera Quando due rane Attraversano la serata Uno dice l'altra Ranocchio No 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 eh Cioè dai un occhio Praticamente No 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 Me ne vado Me ne vado Ciao Cioè me ne vado Assolutamente me ne vado Oh ma starta Ah ma non starta Dai ma siamo in 30 Ma che problemi stanno avendo Mi ricordo Eh 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 questa Grazie Sì Vediamo Ma è successa anche una volta Giorni fa Nelle qualifiche Che stavamo giocando I World Series Eravamo 90 Non startava Dopo tre ore Startata In 79 Vabbè 28 Peccato che questa Questa è vinta Questa è vinta Se la guittiamo Questa è una vittoria persa Ti ho scritto su Whatsapp Lupo Guarda un po' Basta Mi scrivete lunga Già faccio più Che è Che mi hai scritto Zitto Ah Zitto tu Mi vuole bene Mi vuole bene così Ci vogliamo bene così Se io A novembre Ci facciamo streaming A novembre Di me Di to una pizza In faccia Di to a novembre Facciamo streaming Io e Lupo Live Ci mandate soldi E tutto Tutto Ci mandate soldi Tutto quello che volete Raga Quello che potete mandare Mandate tutto E pure qualcosa da mangiare Quello che volete Tanto tramonte Tritura tutto Preparatevi per Quattro No Sì Per 6-9 novembre Dal 6 al 9 Sì sì Vabbè Facciamo così Io mi trasferisco Lascio la casa a tramonte E tramonte stream a lui per me Va bene Io me ne vado in vacanza Va bene Va bene Va bene Te vai all'hotel Dove il canto c'è Sì no Di strada tua Ok Faccio stream Eh niente Il signor presidente Verrà qua Lulita Il signor presidente Incredibile Io ti banno l'account Fra Io ti banno l'account Ah lo so che ne sei capace Ho paura Ho paura Quando viene il presidente qua Beh la Lulita Vediamo se non parte Ah sta partendo Perfetto Suavemente Pensame Io chiedo il presidente A chi Come Allora E comunque non capisco Perché Bebs Non abbia ancora mandato il video Oh Una pizza Ha ragione Bebs Tu devi mandare il video Abbiamo fatto con la vittoria Due contro quattro Sul reperto Avevi promesso Che se facevamo la vittoria Tu uscivi per il tuo paese E mandavi il video Eh no È vero L'ha promesso Il live L'ha promesso Eh Allora Tanto non possiamo mai vincere Siamo due contro quattro Se vinciamo Esco un Nel mio paese E faccio il video Stiamo aspettando il video Oh Cellulita Signor presidente Cellulita Cellulita? Sì Ciao Lulita Ecco T'ha salutato Ciao me Come andiamo? Un bacione Dal presidente Abbiamo fatto festine qua Gioele non ti incazzare con me Ma gli mando un bacione A Lulita Sorry C'è anche Capoccione Giusto per Per info No C'è Domenico No Ma bannatelo Questo qua Ah ma siamo un 24 Sì sì Oh questa dobbiamo vincere fast Proprio easy Ehm Ma se C'è me il lancio Dai fate il lancio Il carrello è apriso C'ho Ma il fidanziato di Lulita Non era Non è Rizio No Rizio Ah Rizio Ah sapevo io che ho sbagliato qualcosa Rizio 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 Ho sbagliato qualcosa Era Rizio 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 Qua me sa che Dobbiamo indagare Ovvio ho lasciato i soldi qua Regà dove siete andati Non se sa Vabbè vabbè Me li ripiglio Ti faccio un wav Vengo da voi Porti i soldi Bella Roberta Buonasera Lopo farò anche io quel video Se mi fai vincere quattro partite A prove di titanio Eh la madò Faccio prima a farlo io Su un altro sito Guarda Mi dissocio Mi dissocio Se mi lasciate qualcosa di soldi Poi faccio un altro wav Però vi vedo molto impegnati Vabbè Samurai è partito Parte anch'io Quattro qui da me Eh il tramonto Lei va da solo dall'altro lato Vabbè Non lo so Lo sto seguendo Mi sta scappando Vai l'ho preso Ma contro c'è un full team Contro Mo andiamo Mo andiamo C'ho i soldi Faccio un wav Andiamo Anzi saliamo da tramonto Lo faccio lì Bella Bombularu Buonasera Oh bella Davide anche Buonasera Non so se ho saltato qualcuno Riscrivetemelo Ho saltato qualcuno Riscrivete Ma no Questa Oh ma Quisti Oh ma Oh Non lo so Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Dove ti spara No 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 Merda 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 Dai da dove è uscito questo Se sono restati eh Sono tipo in tre È brutto Quando ci hanno inato res È brutto È brutto Oh uno me l'ha dato però Uno non si è riuscito a restare Passaggi c'è Dai che torno Bella Emanuele Buonasera Buonasera Gerardo Con tre lì Attento All'altro Io mi dovrei più al lancio Oh che è successo qua Ciao le mie armi Avete fatto tutte e tre Sì Quando ho soldato L'amico in volo Eh vabbè Dammi Dammi Non mi ho rubato Niente Chi l'ha dato Andate Vabbè C'è la gente lì Guarda che l'ha scammata T'argogna Vi lascio i soldi Per far Allora Aspetta che devo Carica l'arma Vai Ah sì Localizzami Sei già in 15 C'è gente Acquinta me Sto arrivando Ma non lo pinga Zio Sì È qui da me È qui da me Ho sentito Guarda Ecco Ancora queste cose Tombo E lui sta sdraiato Ho fatto Tombo Vabbè ma pure tu sei Sei un tombolino Dai letta Punto sai cosa serve a un maiale Quando va all'estero Il passaporco Che faccio Gioco nel chilling Sì Ah vabbè Mi ha appena mandato una roba in chat Zio Avete i soldi? C'è che c'ha tutti quei soldi Fatelo Fatelo No mi è appena arrivata una roba in chat A cosa serve a un maiale Quando va all'estero Il passaporco Dai per piacere Bebs Staccato Comunque Grazie per le 200 stelle Uuu Tu a terra Tu a terra Mi sento male Agiai subito Oh la Ressad Staluto Senti che sono tanti qua Ma dove vai tu? Tu non interessi Tu non interessi zio C'è l'altro sotto in teoria Ma tanto vado a prenderlo io Timma Suavemente Bebs Pezzo di fango E Bebs Pdf Tu non lo sai Bro Va bene Grazie per le 200 Vai laggarvi le tartaruga No mi servono i soldi Nessuno ha un Wow Si è rimasti 3 contro 4 Samurai scatenato Ha detto che questa è una vittoria easy Ha fatto tante Dai manca l'ultimo Fatelo E facciamo un'altra win Subito dopo di questo Dai No Samurai Let's go Easy Hai detto che se startava Questa partita Era vittoria Non la volevo Quintare Vai Solo i numeri Non azzeco Solo i numeri all'otto Non becco Porca miseria Ho detto che questa partita Si vince No 24 Mi pare Ho 28 Suavemente Si me la mendo Me la mendo Bebs Io posso Lei no Fra mi consigli Un monitor Per game E un monitor chat Ma game Penso uno dei migliori È il bank Quello che c'ho io Brando Brando Restarto Eh restarto Buonasera Francesco Ogni volta che entro Una win Che spettacolo Grande Gerardo Devi entrare più spesso Fra Devi stare presente A tutte le partite Porca miseria Allora Siamo tutti e quattro No c'è Annin 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 Lackbar Che non è ancora arrivata Eccola Eccola Andiamo Stavo dicendo Monitor per il gaming Quello che uso io Il bank Secondo me è il top Soprattutto per console È uno dei migliori Il bank Eccola Aspetta Perché quelli ce ne sono vari Il modello Mi pare Il ZAV Non lo so Non mi ricordo Tutti i numeri Però il ZAV Qualcosa ZAV L Tipo Come bank Per la chat Uno qualsiasi Non è che Cioè serve per leggere Anzi no In realtà Per la chat Uno che si possa Mettere in verticale Tipo io c'ho Un asus Che tu lo puoi mettere Orizzontale O lo puoi spostare In verticale Io l'ho girato in verticale E leggo così Praticamente Lupo Lo sa che quando un bollo Non si sente bene Lo portano al Policlinico Sì Policlinico qua Posillivo Lo portano là Lo portano Gli fanno la La tac Pol La tacliclinica Mamma mia Tutte voi le sapete Rega Ste cose Tutte voi Incredibile Mi meraviglio Sapete più ste cose Che Non lo so Forse a scuola Le facevano studiare Le facevano studiare Questo Non lo so Eh Nico Merck Se è Se è Proprio lui Normale che non riesco A trovare il settaggio Automatio Non balla troppo Potresti provare Il mio che avevo Se chiama Punto esclamativo Automatio In chat Lo provi Però Sicuramente Gli hanno aumentato Un po' il rinculo Ecco gli aggiornamenti Se no puoi provare Il KG Che uso io Finalmente Lupo da quanto tempo Bella Michele Ma mi sono sentato Due giorni Forse lei mancava Da un po' prima No C'è Raph Stavo scrivendo Buonasera Ma mi sa che vi saluto Con bel buonanotte No Ma come Sono le 22 Ma dove vuole lei Dai dai Dove vuole Dove vuole Dove andiamo Vabbè visto Che ha detto Che facciamo Stasera usciamo Sì usciamo Dove andiamo Boh non lo so Tu dove vuoi andare Non lo so Tu dove vuoi andare Ma io è uguale Ma tu Vabbè andiamo là Succedeva sempre così Ma tutti qui dentro Ci fa gente Fammi prendere l'arma Zio Allora Ti sei mancato Per due giorni Mi fa piacere un sacco Ragazzi Purtroppo Non sono andato in vacanza Sono sempre stato qua Però Allora Per agosto Proprio me la sono presa Nel chill Perché erano tre giorni Che stavamo provando Le qualifiche Notte Giorno Pomeriggio Ero troppo Ieri poi Invece ho dovuto Lavorare un po' Delle canzoni Quindi Ok niente I miei si sono restati tutti Vabbè Ma che te lo dico a fare Zio Vabbè Io ormai sono abituato Dopo quello che ho visto Nelle qualifiche Ormai manco Mi meraviglio più Guarda No Mi meraviglio più Pro A me non sei mancato Ma io Ti faccio buttare fuori Dove Porca miseria Guarda che culo Ma io fa tutta la giocata Scivolata Mi son messo sotto Vabbè Infatti Bamba ci manca Si sente la mancanza De Bamba Zio Dove è Bamba? Da cazzo Lasciami Cento Prendi Prendi Spacehold Prendi Vai vi faccio un altro Web per dopo C'è ancora gente qua Comunque Quello Amado Ha craccato Mezzo mondo Nessuno a terra Bro Ah Ha tirato un bomba Flash Ancora con flash Sto bocchino No Ah c'è salvo Ma che significa C'è salvo C'è salvo E chi è? È uno Ma chi lo conosce zio? Sarà che sono morto Con un bomba Dentro la casa Sempre così deve succedere Guarda Io non dico più niente Però scheda audio esterna Per il mic Dici va bene la focus Si la focus Non dovrebbe essere male Come scheda Ce l'avevo anch'io È una di quelle economiche Comunque funziona Va al suo Aia Dove è andato Ha sparato a te E poi è sparito Sì Guardalo Guardalo che timing Questo qua Oh ma neanche non si sente Eh lo sai come è sto gioco Sì Che tu vorresti sentire Non l'ho sentito E tu veramente questo gioco speri di sentire i passi Ah ma strano Ma c'è un altro qua GG Siamo già in 17 No way bro Ho visto Aidwater L'ho visto ora Questi soprappresi Non l'avete fatti? Sì sì Prima di me l'ho fatti Ho camperato E' più di uno sopra Vai frate Dove è la gente? Dov'è? Sopra di noi Penso ci si È qui È qui Ce l'abbiamo nella nostra casa noi Oh Ne è saltato un altro Ma da dove è uscito questo? Fatti 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 Non me lo chiedi Che manco Ma fra Ma non c'erano? Eh Vabbè Ho fatto tutto Ho fatto tutto il giro Contro la prison Non c'era nessuno Ma io Ah quello si è salvato sul tetto Uh però c'è un altro là Minchia quanto rima Quanto rinculo a star Uh Quello in teoria era senza piastre One shots Però vuoi andare a nuova che è pieno? Sì sì Andiamo a nuova Eh facciamo piazza pulita Questi non hanno capito con chi ha neanche a fare Sopra Sopra Guarda dov'è Oh Forza GG bro Guarda guarda Hai killato Silvio Salvio Silvio Gatti si chiama lui Bele suoni C'era l'ultimo che mi pingava Di quelli che abbiamo killato qua Eh Sono di due anni Ah sono di di là Io sono da me Sono anni Cioè ti sono dietro ma Tenta ad entrare Entra Grande C'è un altro C'è un altro A terra No Chi mi ha fatto da fuori Ma ha killato eh Sta busciando Sta busciando No non ci credo Alla chi Alla chi Siamo morti noi Guarda questo Che non mi sembra tanto normale Vabbè Sono morto appena cecchinata Regà Incredibile Ma che cazzo Vabbè No 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 Sono morto Sono morto Sono morto Mamma mia Ma No non ci credo Dov'è sta gente C'ho sette vite Come i lupi Non c'ho più la vita Non c'ho più Ma io vengo perché parlo Ma perché parlo Uh Ah Eeeh Non ce credo Giorgio Abilton Direttamente Dalla formula 18 Dalla formula 18 Grazie mille per il regalo Alla community Dell'abbonamento Bro Grazie per il regalo Giorgio Grazie per l'abbonamento Regalato Penso l'ha ricevuto Fausto Vero Sento che quello Spara bene Ha ricevuto Bombolaro Casa davanti Lì Sento che quello Spara bene Sì sì Visto C'è 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 Uh Hai fatto un grande regalo A Bombolaro Incredibile Questa 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 Saltellando Come il doniglio No Guarda là One shot Non c'ho piastro Ok Dietro 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 Ma va Ha preso l'auto Si è pushato Si è pushato Si è pushato Si è pushato Non prendo più Uh È need help È need help Non vuoi Va Si è pushato Anche il lato No Ma Fanno fatta anche a me Cosa cazzo era questo Questo non è che citta Level 37 Non saprei Si si io quando parlo me me do sfigata solo è bellissima sta cosa Vabbè calma 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 cammi prende la cazzotti pure Ha una munizione Scala me c'ho solo una mitraglietta mo se sono sorrnotate Se avete un tema devo sentire molto io Si Se non c'ho le armi fra che cosa andiamo da tramonto qua da giàè già jiu jitsu come cacchio O non l'ho messo a terra lì O non l'ho messo a terra lì Non so cosa cazzo è Io ho le mie armi dall'altro lato Vediamo se riesco a rifiare Oh le tende Fatto è morto Dov'è la mia arma No Sopra il tetto Perché c'è un busciato qui Dentro È dentro È uscito Sono due Esame L'uomo che non esiste ha avuto la sub Buon burlaro che non esiste ha avuto la sub Incredibile Ma chi è Ma what Peccato terzo posto Va bene dai va bene dai Uno l'abbiamo vinta ma questo terzo posto Samurai è impazzito Va bene ci riproviamo Buonasera Carmine Comunque due vittorie l'abbiamo fatte Due win l'abbiamo fatte Quindi GG 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 bro GG 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 Ma sto vivo Te l'avete fatto Eh lo so Lo so che dobbiamo fare Vabbè è girata così Fratellino Fratellino È girata così Comunque mi sa che su Rebeert Meglio l'STG lo sai bro È più veloce Il KG Su Caldera mi trova un amore Però su Rebeert I don't know Non mi convince tantissimo Ma che nezzeta Vai con l'STG qua Urzula Grazie del follow Benvenuto Allora GG a capogione L'uomo M13 E meta su Rebeert Eh lo so ma Non mi ispira Cioè l'STG secondo me Su Rebeert è tanta roba Adesso lo riprovo Riprovo l'STG Vediamo che succede Eh sì Che l'uomo E tramonte E tramonte La scuoteca Let's go bro Tornate con la capuzione Raga Arrivo subito Guarda Adesso metto l'STG va Metto l'S Ah Vabbè Mi schianto al suolo Mi schianto al suolo Raga Vi faccio vedere Pre partita l'STG Eh No nel frattempo Mi faccio una puzzua Eh a me fa un pazzire L'STG qua sopra Eh Mi ero abituato con le qualifiche Che è Tartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart A tirare giù non è male Dai, giociamo con questo Pronto? No, dove è finito la puzzola? Pronto? Tra l'altro mi chiede Bebs Ma si è un biscotto che bab? Tra l'amonte? No, non c'è Aspetta, ma io lo dico dopo Bebs, appena arriva Bebs Eccolo, eccolo, ci sei, Jiu-Jitsu? Tra l'amonte Mi chiedeva Bebs Che stai mangiando, zi? No, vabbè, vabbè, vabbè Ma di che stiamo parlando? Che stai a mangiare, mo? Che da te sono le 11 di sera? Una piadina con prossimo crudo Rucola Madonna Oh, va la dietro, no Comunque ha detto a Bebs Ma se è un biscotto kebab Confermo dopo che te stai a mangiare la piadina Qua alle 11 di sera Ma di lì a Bebs N'gula a sord No Guardate, guardate là Vabbè, vabbè, ti ha lasciato a Nin da sola In fasco Non, che pingo io E' andato Ma che stiamo, pazziamo Non ci siamo in dire Ma quello pensa a mangiare Vabbè, si torna a casa, signori Sempre fresco Ah, che buono, eh Grazie Mi stai facendo venire fame, sappi C'è una cotoletta Dopo la vado a prendere Oh No, vabbè, mi hanno aggazzato avanti e dietro Guardate, guarda C'è un team sotto di me Bella sta cosa Che mi ha piazzato l'arma Che mi fa una brutta fine Basta, ma vengo con due armi serie, bro No, vabbè Eh, me ne arriva in faccia Che faccio? Io offro il kebab duo? No, la mia piadina C'è, la tua piadina Gli do C'è E le La piadina del tramo Vediamo se riusciamo a far so lancio Abbiamo soldi Oh, guarda questo come è arrivato Grande anni Non c'è un cecchino dall'altro lato No Villa Voglio fare serata Contra monte Ridere a crepapelle Ridere a crepapelle Ridere a crepapelle Ah, uno fa, l'ho fatto Stanno le armi Solo noi siamo i cretini Peps, proprio nel momento sbagliato me l'hai mandato Proprio nel... Ma che sta succedendo là sotto? Nel momento sbagliato me l'hai mandato Voglio fare anche io Voglio fare anche io Sarà da contro la monte Mi sa che succede Eh, vado sul lancio, zio Giro su un'audi al server Ah, sale i piastri, questo è protetto Non prendere il lancio, non prenderanno il lancio Samuab, non si capisce niente Com'è da dire la storia, samurai? Ma chi c'era No, ci sono una piastra C'è uno in cucina Ma tra l'altro c'è uno qua Sono due qua Sono due Terra, vai Liberato, zi, 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 bro Zizi In cucina c'è un altro team Ma ha preso Eh, c'è pure contro Anno va Perché sei sceso? Eh, perché farò quella Tanto di qua mi entri, bro Eh, eh C'è qualche piastra Aspetta che stavo rimettendo la La sdeghete Eh, sì Sì, sì, si, mi ho trellaci Vedi che stava gente qua, eh Lanciavo le munizioni della mitraglietta Sopra mi sa che sono andati, eh Vai, saliamo, saliamo Con i sub, con i sub Vabbè, mo c'era A Ninni che me l'aveva chiesto già da un botto di tempo, eh E non era ancora riuscito a giocare Stavo facendo fare due partite Dopo però se c'è Danilo che era sostenitore Doveva entrare Ci sei Danilo? Ma questo? No, mi dissocio Mi dissocio Ma normale che era mutato Ma ha matato la parolaccia Niente, mi stanno insultando Beh, è iniziato l'orario degli insulti, raga Guardate che mi faccio un attimo una Hola, sono italiano Sono, ah, italo-spagnolo Oh, bienvenido Bienvenido, Daniel Come stas? Come stas? Tutto bene? Come stas? Bienvenido, eh Questo è italiano Ma si ha parlato spagnolo, eh Lo intendo, eh C'è gente sotto No Penso da bio, vero? Eh, da bio Uè, amico mio Oh, che non è arrivato qua? RPG Dove cazzo no? RPG No RPG E' ultimo Lo so, lo so, bro Che devo fare? Oh my god, bro Non veni qua, non veni qua Ma dopo me l'ho anticipato, zio Ti è asciuto, vero? L'anticipo Questo lo insegnano a scuola, eh GG, mi hai salvato Mi hai salvato il culo Peraltro però No, mi ha fatto, mi ha fatto Questo lo insegnerà a scuola, signori Oh, questo è un bazooka Questo è un bazooka? Batti li cazzi, tu No Oh, ma dove... No, no, no Non c'è, bro Non c'è questo a casa, bro Oh my god, c'è un po' di enemy, bro Oh I have a plan No Non c'è un po' di enemy Vabbè Atterra, 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 atterra Sto facendo un macello lì sotto Guarda che si è incastrato Guarda Sta restando Si è restato Ma c'hanno l'autoress, c'hanno C'è fatto quello? C'è uno qui C'è uno bocione, c'è uno bocione Madò, che casino qua Dove sono le mie armi, mo? Certo Oh, vabbè Sto sei fio, sto sei fio No, mi sa che fai prima a farti fuori Fatti fuori, se no non rinasci, zio Grazie, veniamo là, mo Le mie armi Vabbè, lascia sta, gioco questo Ma ha sparato da bio Da bio, c'è l'ultimo bio Ancora bio? Eh, bio, bio, biochemical Novità? No, dovrebbe Ancora non si sa molto Probabilmente vogliono mettere Sulla nuova season Vogliono mettere una modalità Con Mezza competitiva Tipo con le leghe Non so come spiegarvi Tipo che È una roba in prova Per la nuova cosa Di Warzone Le leghe, le leghe Come me posso spiegar Cioè, oltre alla playlist pubblica Anche una playlist dove In base al livello che sei Ti va a giocare No No, 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 no Eh, aspetta Io non c'ho più niente Se mi push è finita Craccato, craccato, craccato Mi coprite che va da resta tramonto C'è piastre? No, non c'ho piastre E che fa? Mo schifo Avete fatto quello sopra? Puoi fa Mi coprite Compro le piastre Vai, vai, vai Che siamo? Che siamo? Vai, copri Dai, copri E compri Vale, ho comprato E stanno a terra Abbiamo uno laterale Altri due qua sotto Dimmi Da quest'altro GG Vai Vai GG Abbiamo vinto un'altra partita Ma perché? Ma perché? Ma che è successo? Comunque, dicevo No, le leghe tipo Capito? Quella roba come sta su League of Legends Altri giochi Tipo, c'è sta pure su Apex Se non vado errato Che tu Vai a giocare delle partite Proprio competitive Dove c'è una classifica E tu in base a che classifica sei Giochi con le persone Di quella classifica Sarà interessante Spero Lo dovrebbero mettere Non è sicura come cosa Vediamo Con la nuova season Vediamo un po' Ambutala Membala Lugo Ma in sostanza Sia Warzone Che Warzone 2 La prossima nuova mappa Quando uscirà No, sono due cose diverse Cioè Quando Quando uscirà Warzone 2 Sarà proprio un altro livello Eh Ma perché ti ostini a giocare Contra mondo? Perché ti ostini a giocare Contra mondo? Che significa, zio? Mi dissocio Mi dissocio Che è sto bordello Che microfono? Anche tipo FIFA FIFA Però ci sono le divisioni là Sì, se lo vuoi paragonare a FIFA Più o meno Però non proprio Sarà un po' diverso Mi dissocio Tramonte Non insultate il mio amico Tramonte Che è il presidente Tramonte è botto No, mi dissocio Cioè Denis Che ha detto che sei un bot Tramonte Le ha a Denis Di succhiare un po' di No, no, no 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 No, no No, intendeva il gelato Che è buono No, il gelato Il gelato Perché d'estate è buono È rinfrescante Assolutamente Beh no No, no, no L'ho mutato Per sicurezza Ma tolgo tutte le armi? Sì, regà È un altro gioco Proprio Warzone 2 È un altro gioco Non ci sono queste mappe Non c'è qui Non ci sono queste armi È tutta un'altra roba È collegato al nuovo Call of Duty Che uscirà Esatto Le classificate Nello Metteranno le classificate Dicono Dicono Poi non è sicuro Sapete come Dicono una cosa Poi ne fanno un'altra Però così hanno detto Vogliono provare A inserire sta roba Niente Io non posso Sta tranquillo Con Non posso Sta tranquillo Con tramonde Si può scherzare Con tramonde Dicevano Sì Una favola leggendaria Tramonde Tramonde Ti assumo Come incazzatore Personalizzato Tutti dovrebbero Tutti dovrebbero avere Un bel Ci sta Ci sta No no Io Ce l'ho già assunto Dai appena succede qualcosa Avviso lui E ci pensa lui Mi dica Mi dica No che ti vogliono Assumere come Incazzatore Personalizzato Ma mi dissocio Non sono incazzato Io a Denis Lo amo Ma Quando vedi a succhiare È da succhiare Fra Figurati Lui è così Ha detto Che è normale Cioè Praticamente Lui sta dicendo Che così È normale Figurati Da incazzato Ma lo voglio Proprio vedere Guarda No 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 Non mi vuoi Io non mi incazzo Ma quando mi incazzo Succede un macello Quindi questo chiuderà No no Questo continuerà A restare aperto Ragazzi Non lo chiudono Questo rimane ancora aperto Semplicemente Ci saranno due warzone Warzone No Non penso Non uscirà più niente Questo non lo aggiorneranno più Ragazzi Non uscirà una nuova mappa Ah io mi sono butta La heatwater Vabbè Così a caso Vai Grazie Tu vai Comunque Ho la gola secca Volevo L'urvartelo Volevo 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 Volevi Bottarello No Mi dissocio No mi dissocio anch'io Uè Buonasera Luca Grazie mille per le 40 stelle Bro Ah perché ho fatto 20 kill Per quello Sì Devo rubare le kill Devo rubare le kill Uè Rap Grazie mille 50 Bomberone Ma io Puscio Control Va Io Buttare Tutto Io Volere Buttare Control Che peccato Non ho rubato Non sono riuscito a rubare La tramonte Ma che vuoi rubare Dai No Non va a terra One shot Guarda Va bene Va bene Va bene Va bene Ma chi ha buttato il lancio così Raga Ma dal laguno che deve fare per via il lancio Guarda Basta Mo arrivo Arrivando con la classe seria Ah uno è salito sopra Eh Eh vabbè Questo che ha fatto Spiderman No bombardamento Brody Sopra 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 Non sa che non lo sai Tramonte For President Soghiglio con occhi felici C'ha fatto tramonte No c'è un altro C'ha fatto tramonte Ah Allora c'è Giorgio Hamilton Che mi ha mandato 200 stelle Scrivendo tramonte For President E' ovvio E' ovvio E' ovvio Grazie per le 200 Giorgio Bella Davide Sì 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 Sei ci sei Sì sì Stangop Stangop No Che c'è? No No Che bestiave mi ha tirato No mi dissocio No ma come mi puoi bestimare così? No 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 Guardala C'avevo un'altra arma in mano Oh ma è da tre ore che sto guardando l'UAV Questo sta sfuggendo ovunque No No che si fai Ma chi è? Sono morto Mori non mori Ah c'era un altro sopra L'altro di due sopra Ferma 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 Oh Oh E' imbazzito Imbazzito Mi tieni già tra gli amici comunque Davide? E' imbazzito Davide E' imbazzito Davide E' andato il party di stelle E' nato E' nato E' imbazzito Davide Cioè non ci sei adesso? Tra molti for presidente Non ci sei adesso per giocare Grazie di cuore per Quante sono? 900? Oh guarda questo che è salito Guarda Oh no 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 Mi scappa La pipì Mi scappa la pipì Me l'ha rubato guarda Me l'ha rubato Me l'ha rubato samurai Non ce voglio credo Guarda bro Imbazzito Grazie per le 900 Eh non l'ha data a me zio L'ha rubata coso Ah no 1100 No No ma l'altra l'ha mandato giù No scusi Mi sono perso qualcosa Non so fare i conti più Non so più fare i conti Davide No Sono due Sono due Ah ha chiuso Davide Ah non ha due sotto Ah ha chiuso Davide il party Grazie mille frate Dov'è Beppe? Eh Beppe si ha scritto Tramonde for president Con le altre 200 Grazie mille per le altre 200 Beppe si ha Anche Raffaele si ha aggiungi Con le altre 50 Ampazzito Angraf Andiamo 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 a fare sta vittoria Dai per loro Ah e 200 erano di Giorgio Serve di nuovo il lancio Guardi io Troppo forte Troppo forte Detto mi sa che è libero Vediamo un po' E tramontino Tra iardo Ha chiuso Davide con 900 Ok ok Oh se ti può passi Mi sono meravigliato Va giù Da contro Da contro Prendete i schiafi No Adietro Siete bravi Lo so Stanno andando in giro Comunque tutti insieme Due tre Guarda come vado a morire Guarda Due team di italiani Li ho vato fuori Sono fatti in due Questi Il problema è che Sono senza piastre E' sopra e sopra L'ho fatto i due sotto Hanno fatto il lancio qui Stanno Dovrebbe stare sopra il tetto C'è io piastre Prendi Thank you very much Daie daie Ma quando ci sei per Per riduogare Davide Quindi la sera no Perché lavori sempre Dov'è Sceso Era qua E' sotto Eh sì sì Ultima adesso Adesso sono tutti lì L'altro è salito Ma perché mi insulti Ma perché mi insulti Sì 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 Erano questi che insultano Sì 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 Anche a me mi ha dato No come ho smirato Come ho smirato Sì è sopra È sopra È sopra Eh l'arma guerra A volte fa smirà Non è facile Poi mi sa che l'hanno depotenziata un po' Noo Voglio farteli sudare Dai 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 Ma mi impegno Però ciò Devo bere Devo bere Devo bere A fuori di palazzo E' saccata la gola Zio Ce l'avete qua Dai dai Siamo da mezz'ora a fare Da questo stesso team Non riusciamo a tirarlo via Che c'era sempre uno che si salva Fai dei tramonti Va fammi dei tramonti Buonasera Marianna Comunque mi sa che c'hanno ragione Arma guerra Non è depotenziata Mi sa eh Un aggiornamento Oh mio dio Eh io non rinasco più Dicevo Allora Manca il terzo Vediamo qua forse posso essere safe Vengo dentro a prendere le armi Raff grazie mille per le 540 stelle Ancora Soprattutto Oddio Questi che bestimiavano Mi ha detto l'ho preso Intensa l'ho preso Ma hai preso un cazzo Hai preso No 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 È imbazzito Però è imbazzito L'ho preso L'ho preso Eh Appunto Hai preso un bel palo Comunque arma guerra Depotenziata eh Cioè si nota proprio No Mi distorcio Si 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 No Eh no no Non più forte come prima Fidati La sto vedendo eh Ne parlava anche ieri Jesus Bro No no Sta ancora sulla torre Questo Sta ancora sulla torre Sta ancora là su Sta ancora lì Sta col KG Puntato Si si Che palle sta torre Torre non è finito Che siamo arrivati I centocinquantanovesimi Su 1800 Passavano i primi 40 Passavano Sì ma ne hanno fatte Di schifezze Gente che ha fatto Entrare i follower Nelle partite Sì Gli regalavano le kill Uh Ne hanno fatte Di tutti i colori Tante schifezze Hanno fatto comunque Spero che l'anno prossimo Non sia di nuovo così Perché se no non ha senso Non ha senso Così Allora stavo dicendo Mi è arrivata una donazione Grazie mille per la donazione Bro Grazie di cuore Ho visto adesso eh La notifica Mi è arrivata Grazie mille per la donazione Dopo Ui 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 Ah peccato Peccato All'aghi Era te C'è nel aspetto qua Peccato Dicevo Sicuramente Dopo La Diciamo Metto Metto un piccolino Budget da parte Devo comprare il nuovo code Ancora non l'ho prenotato Vado a prenotare il nuovo call of duty Perché Tra l'altro c'è la beta da portare a settembre Quindi Chi lo prenota Porta la beta a settembre Cioè può giocare Ovviamente io se lo prenoto Così lo porto in live A settembre E poi chi lo prenota Può giocare dal 20 ottobre La campagna 8 giorni prima E vi porto pure un po' di campagna Allora Stavo dicendo No comunque bisogna Fammi vedere se c'è un'altra classe C'ho ancora Ah c'ho anche L'HP L'HP era bello fra L'HP con O l'Owen Anche l'Owen O l'XM con l'Owen Sai che cambia un attimo arma zio No si vede che comunque Non fa lo stesso danno di Quando ci ho giocato due giorni fa L'ho noto L'ho noto Sai che hanno demotenziato L'arma guerra Non tantissimo Ma si nota Allora Riproviamoci Ancora Raff con le 50 stelle Bombardiamo di stelle Ci porti in campagna Sono stango della città Vi porto in campagna Vi porto in campagna Vi porto anche Tramonte Che vi fa il pascolo alle pecorelle No mi dissocio Ci insegna a raccogliere le patate Assolutamente Riaccogliamo insieme le patate Va bene Vi insegno io Non vi preoccupate Faccio tutto io E con questo punto Consiglierei O la Blixen di nuovo O l'Owen Adesso provo L'XM4 con l'Owen di nuovo Sta partita Vediamo come va Se mi piace Ce l'ho ancora nelle classi Vediamo un po' come Arrivo subito Ta 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 Arrivo eh No non ne cucino io Ma io ci voglio un altro panino fra C'ho fame porco zia Sono venuto da calcio C'ho una fame porco zia Porco Mi sto dissociando da questo panino E' stato così buono Che mi faccio un altro 3 heads mister samurai Ma sei live Pure te Yes Tu twitch Ah Lissipo bestimiare Lissipo Eh Qui con lupo fra E' un casino Poitire 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 Do Facebook Di Mark Zucchem Scatzo No me chissò Che è il lupo Se no Se no lo fanno Dai non lo bano Non lo bano Dai famo una controllata dai Trova a prendere un pezzo di cotoletta Ho mangiato Dai andiamo a contro Eh si si Ma faccio lo cazzo Si vabbè ci vediamo al gulag Mamma mia Wow Questo è il livello 600 Passa Uva passa Uva passa Ma passa e non saluta Che passi a fare Sopra 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 Sono 4 Wow 4 Magari Possono 4 Non ho idea di quanta gente c'è Dito bloccato Lissipo Eh lì sono 4 Sì Quattro Tanto è una sfida tra me e samurai Ma ammazza La presa da sul pezzo Non è la parola No no mi dissocio Sto scherzando In realtà io ho una challenge Devo fare 20 bombe Eh con te che cazzo faccio Non faccio Non fai più di 10 Guarda che sto giocando molto easy Molto sciallo E non va a terra Bocca di quella Ah c'è uno sul tetto Dai staccate zio Non tengo la le mie armi Sì c'ho già Ah ha buttato l'empo Bello No chi è stato Prison Torre C'è Cazzo Ah se tu No ma c'è un altro sotto zio Sento i passi Ah è sopra È sopra È coming bro Ah per cazzo Ci ha detto qualche parolaccia zio in inglese Credo Sì Io penso Ma non ho la sicurezza Il serpentino Ma lo so Uno è sotto Dov'è questo qua Quanto serpentino avrà Oh ma questo Te lo giuro Non si sente i passi Il zio Niente 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 Non si sente i passi No Sono caduto nell'acqua No Vabbè ma pure lei Signor presidente Pure lei Eh sono caduto nell'acqua Che bordi Sono caduto con l'acqua C'ha paura dell'acqua Non sa nuotare Gli metto un salvagente Che schifo di gioco Che schifo di gioco Non vuole una ciambella Sono caduto in acqua Il presidente è caduto in acqua Signori Alcuno lo va a ripescare Presidente in acqua Mamma mia Non è possibile Giuro Non so chi è morto peggio Noi due Da un tizio Che era abbassato Accovacciato Non si sentivano i passi Che ci ha pusciato Lui che si butta a mare Vabbè Mi butto a mare Era un urecchino Ok non lo contiamo Dai vada Questo va Questo c'ha caldo Se butti in acqua Zio Non sa nuotare Mi diceva E mi ha visto Quello è mio Mo prendo subito Morto Farei biscotti kebab Porco zio Porco Mi dice Bebs Lo vuoi un kebab Con fiabile Eh voglio un biscotti kebab Non un kebab Con fiabile Aspetta Guarda io aspettavo proprio la sua visita Marco Caccavallo La Caccavallo Caccavallo Come si chiama lei Allora Lei sta andando in tutte le live A scrivere Ti alzi Mi fai vedere in piedi Mi fai vedere un piede La sto scrivendo a tutti In tutte le live Perché secondo te Non ci parliamo Tra di noi Senda O lei la smette O io Anch'io La banno Come hanno fatto gli altri Dalla live Se vuole rimanere qua E fare il serio Rimane qua E fa il serio Se deve continuare A scrivere queste cose La butto fuori dalla live Chiudiamo la questione No Ho trovato un altro Piattina E c'è fame Presidente Eh bra Trovo fame bra Random John Wick John Wick Te sei una lupacchiotta No Chi è Aspetta Ha detto Che ha detto Ripeti Ripeti Che ha detto Ho detto Signora Anim Sei una lupacchiotta Eh signora Sì perché C'ha 80 anni Signora Eh no È da me il sore Che ti sta parlando È lupacchiotto Di 90 anni Ho anche Il lupo tatuato Per questo No Mi dissocio Dove Non voglio vedere Il lupo Lì sotto Ma no E vabbè No ma mi dissocio Sì 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 Se te l'hai fatto sul piede Ci sta Sì 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 È bello Io Io mi dissocio Vedere la faccia Di lupo Lì No Che immagine visuale La faccia Di lupo Lì È bellissimo Ciao Andrea No non è sulla coscia Non posso giocare Allora Bellissimo Adesso No no è bello Peccato tramonta Tra gli incubi Però Invece Io Ti farei Una statua Sto per morire Porco Dio E non moriva Ma Via Ah ma Avete lasciato da solo A controllo A me Stavolta Ma che E nessuno Mi ha appoggiato Mi dissocio Mi stava per bestermi addosso Questo zio Era sopra E' ancora vivo Che matto Attento attento Samurai che è pieno qui Grande Anni Hai bisogno di una mano giù Ciao Eh Sì Sì c'è stava uno C'ha già tempra Fatto Oh non sa morire a terra Meno male Mi sembra non le piastre Hai messo tu la cassa Aspettami Anni Minchè sta facendo il devasto Il lupo ha preso vita Fatto però Ce ne sta un altro Vedo una botta Cioè nel senso Mi dissocio Nel senso La seringa La seringa Oh Un altro qua Fatto Oh ma quanta gente c'è No 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 Mi hanno agganciato bro Sono nel panico Arriva arriva Attenta Attenta Hai salito sulle scale Qui Qui Eh ma ha pushato anche a me Uno qua No way bro No way bro Stasera non tocco E la madonna Bebs E la madonna Braccato davanti a te No Dai dai che sono a sette Gioele sono Sono a sette Gioele è sempre Crago qua si fa Oddio No Gio G Lascio me in arma Devo fare kill Oh caccio Gio Gio Stava sopra di me Pieno rega pieno Pieno rega pieno Boom per me Stava ancora Eh sul muretto zio Perso la nave No No chi è questo Ma sto pdf Aiuto No vabbè Ho un muretto in due C'hanno le armi Ah Vabbè adesso andiamo Oh come ti permette Ho un muretto Dai ancora due Ancora due Che è sta convidenza Luigi No c'è gente sopra Bro C'è quattro sotto di te Anin Ah lo so Eh quattro Quattro Attenda Lange imprendibile No c'è gente sopra Ma che faccio un mordì così Lo faccio qua Lei deve sempre Settemila stelle Lei è sempre Nella blacklist Ah l'ho preso il lancio Non so come ho fatto Ma l'ho preso Certo che sono tornato Is come back bro L'uomo is come back bro Mi serve quel lancio Non so come ve lo devo spiegare Ah Un po' Una dieci eh Raffaele grazie mille Per le cinquanta stelle Piastre Arrate Possiamo anche fare arrate Volendo eh Guarda senza piastre C'ho tipo 6.000 E' libero il tetto mo No 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 Come no Dai mi serve il lancio eh Qui c'è sopra Samurai Dammi una spada Bella Matteo Sanso Buonasera Guarda quello in volo Va va Non me lo ruba questo Sai che me lo ruba lo stesso Va bene no 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 Dalla torre bro Sulla torre Sulla torre Mi mancano dieci kill Cioè Porca miseria Se me ne fanno fare Se mi fanno prendere il lancio Puttati che morbido E sta arrivando altro Un faccia Quanti sono Tanti Le ricontro di mio nonno Ma che Non me ne vogliono far fare Le 20 kill Guarda Guarda Questo Da dove è uscito Questo coso Ma che significa Bella Giuseppe Buonasera Ma quanti cazzo sono Questi qua Si aveva copertura No fra ma sta succedendo Un macello Grande samurai Mi hai parato Le chiappe Le zambette Del lupo Però son 4 lì Non so come Li tiriamo giù No Guarda Lì Aspetta Sono senza piastre Bro Jiu Jitsu Jiu Jitsu Stanno a tirare granate Tutto Basta Vado a pushare Zio No no Lasciata È sparito È sparito Cioè era qua Eh regà Mi servono Mi servono 9 kill Zio No 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 Regà Qualcuno Che viene sotto Eh lo stanno Ressando Zio 4 sotto Devo stare Con lui Perché lina Il H4 Marco Guardate Owen Quasi quasi Eh La crisi Buonasera Buonasera ragazzi Perché si è collegato ora Ma l'Owen Mi sembra che scioglie Agia Era davanti a te Samurai Eh no Non c'è Regà Io ce l'ho un botto Qui sopra da me Caricato 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 Dove sono le mie armi Chi se l'è presa Wey Wey Pochi pochi Wey Pochi pochi No È ancora lì Guarda che non esce Dalla porta Wow mi hai salvato Lasciamelo Niente Voi è stata rubata Tutte le kill Come ti sto rubando Eh da mezz'ora Che gli spara a quelli Ah ecco le mie armi No ci manca l'Owen Non ci manca l'Owen Vabbè Vabbè Alla sto a dodici Però No ma dov'è questo qua Dove mi ha sparato What? Non ci credo Non ci credo Madonna me ne sono trovati Quattro in faccia All'altra All'altra Chi fra stavo A tre Avevo fatto uno start Bellissimo Tipo stavo a sette kill Allo start Peccato Start Gioele Ci sono andato vicino Gioele Peccato eh Peccato Avevo fatto un bello start A contro Non me ne hanno tirato via Sette Eh vabbè Poi non si è capito più niente Poi me sono perso Perché il lancio Sopra prison Non riuscivo a prenderlo No way Raffaele Grazie per le 50 stelle No Che è sta clip Che è successo Chi ha fatto la clip Perché la clip All'aki bro Molto all'aki Dai ci riprovo C'ho sto C'ho sto filo del Come si chiama Delle cuffie Che a volte dà un po' fastidio Dovrei cambiarlo un attimo Ok mi sono perso 104 ovunque No Lavori anch'io Ah per cui Tra lì davanti a te Madonna che succede Boh Esco da dietro l'angolo Tra l'arrivo di uno Poi Entri Entri addosso No no Non c'è solo il BR Assolutamente Il BR arriva dopo Arriverà prima La campagna Il multigiocatore Queste robe qua Uscirà il gioco completo Poi dopo il 16 novembre Mettono anche il Warzone 2 Quindi faranno prima Campagna Multigiocatore E poi il BR Faranno queste tre cose qua Cioè è completo comunque Che comunque fa molto meno danno Regà l'arma guerra adesso L'hanno fatta apposta Hanno visto che nelle World Series Usavano tutti l'arma guerra L'hanno depotenziata E beh Cioè non è male da vicino Però Prima veramente ti scioglieva Con pochi colpi La sto provando Ma veramente Non fa più come prima Allora No Il BR dovrebbe essere gratis Il gioco Cioè la campagna Multigiocatore A pagamento Come al solito Vamonos Bro Vamonos We are ready to To go And fight Together Ok Let's go Ok Let's go No 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 Allora Nota a tutti Bella Raff Raff Mamma mia Che bomberone Zio Grazie mille Per le 1100 stelle Bro Oh 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 Come la Gbiata bella Questa Eh, è normale L'ho traccato così Uh, uh E' prenditi questi, va Traccato, traccato FG Oh, ma dov'è questo che sto seguendo? Ah, era sopra Uè, guaglio Comunque, Raph Grazie mille per le 1100 bombette Buonanotte, bro Buonanotte, dai, vediamo di Poi dobbiamo Dovemmo solo fare sta vittoria Oh, c'è il cechino Navon Non dovevo andare Aspetta, che livello Traccato Vai, vai Vabbè, improvvisamente Oddio Oddio Wow, guaglio Che è successo, cazzo Aspetta, io me ne sono tirati via due Quindi da quest'altro lato Tu ti sei tirato via l'ultimo Stavano in due qua dentro In teoria c'ho la Dove, sotto o sopra? Sotto Sotto o sopra Ma che è, Stangerfingers No, che cazzo lo fate a questi quattro? Ma, chi l'ha visto questo, regà? Raga, no Mi dissocio, chi lo fate? Non c'ho a terra Porca miseria, porca Segnalami Segnalami Francesco, la baguette Penso che stavano su Stronghold No, con RPG No, no Significa faccina terrorizzata Faccina congelata Ma, 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 ma Mi dissocio Grazie mille belle Cento stelle Si, sanno come i pazzi Comunque anche stasera Grazie mille belle Cento stelle Devo fare il clip di quelli quattro No, però mi devo fare Steventi bombette Per, 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 per Giovele Vediamo se Benzina Mi piace ho fatto l'acqua Questa è benzina Mamma mia Godo Fuori Ehi Oh, la faccio l'ugato No, però Non mi fate esplodere la lobby Mi servono 20 kill Stiamo già a 19 Zio Qui, qui, qui Anin E' una mano, una mano No Ancora Ancora questo con RPG Come l'era RPG Mamma mia Quanto vado veloce Prendete appunti voi due Vedi che mi state guardando Prendete appunti C'è gente qua Eh, c'è La gente mi spara Ma bene bro Va bene bro Ok, let's go Guardalo, guardalo E' qui Ma perché morite? Eh, perché C'è uno qui che campera Sì Non mi fa la stessa fine Anin Non mi fa la stessa fine Grande E sta arrivando uno in volo Straccato Eh, però Non ho Mannaggia Discord Non mi ha dato la kill Cioè, mi ha la data Ma non mi ha la data E funziona Buonasera Maurizio Che non diventi un vizio Oh, questo caccazzolo è qua GG Aiuto Stasera vi sequestro Rizio No Nei non può Ma sei formaggino? Guarda È diventata virale quella cosa Ma io la stavo Ah no Ho visto il video in realtà Non la stavo guardando diretta No Mi era uscito il video Poi quest'audio è diventato mondiale Ramonte Sei formaggino? Sì No Ma non sai manco cosa vuol dire? Io ho detto no In qualsiasi caso Ma sai che vuol dire? No E allora Come fa di no? O no Ma come non muoio? Ma io Io Mi dissocio da sto gioco Nannaggia Nannaggia I formaggini Mannaggia Vedo No guarda sto formaggino Guarda Oddio Oddio È il lupo sulla coscia Che mi topa No Nel senso Vabbè devo resistere un attimo Cinque secondi Ho sparato prima io Ma ho fatto lui Questo è strano Non è questo è strano Zio Dipende Siamo sempre in cross attivo Tu sei dalla play Ah non vuol dire nulla Come non vuol dire nulla zio Vuol dire come? No però Mannaggia i formaggini Oh Dai questo da dove è uscito È la scoteca Ah vabbè Partono clip Come se non ci fossero Domani ormai Quanto sto? Sto a 12 Dovevo morire così Non ero io quello Non ero io Non era mio cugino Vai francese ciao Bella Fran Bella Fran Bella ciao ciao Un formaggino Sono diventato Tramonte Quanta canza confermano Audio Audio Bravo Va Bravo 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 Impossibile Mi ha detto impossibile Com'è impossibile zio No l'Owen Comunque rimane ancora devastante Io lo sto provando Ma lo amo Bella 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 No raga ma aiutate a fa Devo fa 5 kill Raga Devo fa C'ho la challenge Dei 20 20 kill Ok Dai me lasciate gli ultimi Regà Gli ultimi 5 Mi servono Ce ne stanno 109 Qui stavo A control L'ho visto Si sparano a control Mancano 3 No 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 Dentro i quarter Che cazzo ci fanno Datemi una mano Me ne servono 3 Regà Me ne servono 3 Eh Non li farò mai Si ne mancano 2 Se li stacchi la samurai No 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 Eh ma dovete solo farlo Come si fanno Fra Mancavano 3 Esatti Neanche 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 Ce n'è uno Ce n'è uno E basta No Eh Vabbio Non va Non va Niente Niente Già 17 Io ci ho avuto 2 Da meno 17 Mancavano 3 Porca miseria No way Vergogna Torca miseria Vergogna Vergogna samurai Vergogna Vergogna Mamma mia Gioia La prossima Spacco il joystick Se non riesco Chi mi ha rubato Le kill Chi mi ha rubato Le kill Vergogna Eh le sto usando adesso Cristian Le stavo riprovando Perché Sono buone Sto vedendo che su Reppert Fanno danno eh Anin ci aveva 4 kill Lei te la rubate Ma ha rubato Anin Ma ha rubato Vabbè ma lei ci ha il tatuaggio Del lupo È privilegiato Va bene comunque Ti provo È privilegiato Aspetta che è successo No Che partito Che è top tartaruga No Che significa top tartaruga Top tartaruga E mi dissocio Dove eri finito in questi giorni collega Due giorni sono stato assente Dopo tre giorni di fuoco Di qualifiche Così Che beccavo i fenomeni del mondo Quelli radio 6 Porco 2 Porco Sono uscito Sono uscito scemo Per tre giorni di fila Da sparare H24 Per superare le qualifiche Dei world series E poi abbiamo scoperto Che c'era la gente Che faceva entrare i follower Nelle partite Per fare Le kill Ho bisogno di uno Stato Stato Ho bisogno di uno stacco Che ho bisogno Ah Ho bisogno di staccare Due giorni Ma ora vi faccio vedere Un attimo la classe Dicevo Se vi fate anche voi Se vi fate anche voi La classe E la classe Vabbè Se vi fate anche voi Il tatuaggio del lupo Siete privilegiati Se no no Capito Parlavo con Samurai Tramonde Pronto Ci siete E voi Se vi fate anche voi Il lupo tatuato E avete i privilegi Ma Tra zitto sta Ma vergogna Questo è l'uomo Poi l'XM Basta che fate in chat Punto esclamativo XM4 O vi esce Dai che devo Comunque stavo dicendo Fermi che mi avete fatto Un broiale idee Allora Stavo dicendo Gioele Bomberone Grazie mille per le 500 Però io mi vado a try Lo stesso Anche questa partita A parte la patata Arrostita Vabbè Quelle sono Diciamo Problemi di percorso E' capitata La patata Arrostita Poi parolone Arrostita Era affumicata Carbonizzata Carbonizzata Vabbè Però era buona Bella Guardingo Junior Come stai Guardingo Junior Junior No no Dai un attimo Un attimo Ti stavo Ringraziando Damme 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 Ti stavo A capire Niente Devi fare Una pagina Di web No No Come hai fatto No Ma mi Ma mi Ti so No La faccio vedere Live La faccio vedere Live Aspetta Se si vede Non lo so Ma mi Ti so Mi Ti so Buona L'anguria È buona L'anguria È buona Un kebab È meglio Però Lo sapeva Mangia un kebab Mangia Che anguria Giovo kebab Che cresci bene Ti curo come tramonte Quindi Non so Quando però Almeno come tramonte Cresci A livello mio Non puoi Non è facile Ci vuole pure Qualcos'altro Per livello tuo Qualcosa del genere Mi sa Dove? Ah Mo volete andare a contro Bona L'anguria Bro Bona Buonasera Adriano Non c'è male Dai Non c'è male Tutto bene Caro Che si dice Aia Aia C'è un pdf Che mi sta sparando Ti vuole male Ti vuole accoppare Il zio L'ho accoppato io Da dietro Da dietro Da dietro Madonna Madonna Arriva un altro Arriva un altro Arriva un altro Oddio Stiamo sopra Noi stiamo sopra Eh sì Un macello è successo Abbiamo fatto fuori un team Loro Biancosì Italiano Brum 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 Come un vero Italiano Brum Imperato Appartinale Avete fatto Bella GG Avete fatto il lancio Stiamo subito Raga Vamos Allora Mi vuole accoppare L'ho accoppato io Bellissime Incredibile il karma con te No veramente È qualcosa di allucinante Ma voi Dovete segnare tutte ste cose Ste citazioni Voi dovete registrarle Voi dovete conservare Perché queste sono Sono perle che non ricapitano più Cioè veramente Mi succede di tutto Mi succede Pronto Bella Luca Dai 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 Spingiamo Spingiamo Spingi Spingi No Penso sono due qua sopra Ho perdito francese Ma povero francese Ha perso la baguette Ho perso il tutto Ho perso La vita Tutto Cioè il samurai Che si sta ammazzato Da mezz'ora Guarda questo Brutto a fine Che ha fatto quello Dai ne esca qua Nientri Nientri Oh Davide Ho sentito una roba Nelle orecchie Però Non l'avevo capito bene Eeeh Ma è impazzito Davide È impazzito Un tempo c'era Giovanni Tescione Sai che fine ha fatto Guarda questo Guarda questo Guarda questo Oh Ho fatto fuori Il team dei francesi Ah Peccato 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 Davide È Pazzito Grazie Per le mille stelle Bomba Bambano Da parte di Davide Un tempo c'era Ti ricordi fra Giovanni Tescione Giovanni Sì sì Vanni Tescione Madonna Chissà che fine ha fatto E da un po' Cioè ogni tanto le storie su Instagram Me le vede Però sarà Starà lavorando fuori Mi sa E da un po' Che non c'è Che non basta No a terra Arrivo a vendicarti Guarda un cecchino Un cecchino Da Con Da Chemical Ma mi stanno seguendo Mi stanno seguendo Lo sto progressando Ma dai Ma stai scherzando Noo No way Però l'ho killato L'ho killato Guarda là C'era lui che copriva Tra la ta 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 Boom E' esploso E' esploso proprio E' sparito anche Raffaele Non è vero Andato a dormire Come è sparito Raffaele Tangredi Mi so Ah no è vero Tangredi E' vero C'è ragione C'era anche Tangredi Un tempo E' Vabbè Un giorno Prima o poi Torneranno I don't know Secondo me Si sono trasferiti Un'altra piattaforma Una Baby Oh Ciao Bello Questo è un sbagliato Gioco Si chiama Ti ho sbagliato Il gioco Se chiama Comenant Ti ho sbagliato il gioco Si Se crede che Sta dentro Allo Arrivo io Aspetti Tramonte Aspetti Tramonte Che ti dà la mano Vergogna Oh Oh What the fuck What the fuck What the fuck Porca Dove è E sono tre Sono tre Dentro prison Nella mensa Uno mensa Uno sul cornicione Il piccione Sul cornicione Ciao Mirko Buonasera Quelle liquori Lo so Lo so Mi son corretto Mi son corretto Eh ma l'XM E' buono Sul reperto Fatto bene Lo sto provando Fatto bene Antonio Grazie al follow Benvenuto Ma davvero Ma c'è finito in volo No Si sono curato La mia arma Chi è stato Ho perso L'Owen Elicottero Vale C'è uno sotto Il bagno Due Guardalo 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 Regà Chi c'ha il mio Owen Madono Oh Regà E' salito Sopra Non me l'aspettavo Fra che salisse Sopra il muretto Mi ha preso Sul tallone Del lupo Te lo giuro Mi ha sparato Questo era un lobby Bellissimo Eh lo so Eh io Otto Peccato Stavo sul tallone Del lupo Bianco Oh quello Si chiama Covenant Quello là Che abbiamo Chilato prima Si chiama Covenant Sarà un fan Di Halo Beh Andassi a giocare Su Halo Dico Cioè Ma anche a me piace Halo Però Non mi chiamo Covenant Poi io mi chiamerei Master Chief Sinceramente Tatuaggio di Anin Mamma Ma non me lo faccio Più Mi devo fare Che hai detto Mi devo fare Il tatuaggio di Anin No volevo Farmelo Ma è morta Ma Che senso Ma in che senso No aspetta Non sto capendo No sei Sei morta Cioè Mi serviva Un secondo Per ritornare Ero io Quello Ma te sei un cretino Come cazzo Hai fatto a morire Lì come un deficiente Porco zio Un secondo Si è trattenuto Oh mi ha preso Sul tallone Ti sto dicendo Ho visto la visuale morte Mi ha colpito Sul tallone Del lupo bianco Ma non devi Affacciarti Per un secondo Ma quindi Di chi ti volevi Fare il tatuaggio Ti vuole tatuare Anin Ma io Si si Mi volevo tatuare Anin sul piede Vabbè Vabbè Guarda Allora Bella Massimo Però quello che Ti rompo Mi vale Mi vale Sono io Sì Tu proprio Mamma Due cose così Però C'ho i polpastrelli Ho fatto là sopra Radicamente Buonanotte Luigi Buonanotte Alla prossima Benvenuto E niente Io Sì però Con quel nome Tu ti chiami tramonto Ti puoi chiamare Jiu Jitsu Jiu Jiu Jitsu La Jiu Jitsu Jiu Jitsu Jiu Jitsu Ma che Jiu Jitsu Oddio Se puoi chiamare Jiu Jitsu Lì è tramonto Ha cambiato nome Io farei una pedizione Bella Adria Pronto Pronto Io farei una pedizione Kung fu tramonte Ah no Kung fu Ah Ninna è scandalizzata Non parla mai No mi dissocio Ah mai Lei è qui Lei c'ha il spirito E qui E qui il nostro spirito Lei Ah lo spirito del lupacchiotto Problema che Qua tra me e tramonte Samurai ride e basta Ormai Samurai ride e basta Tra me e tramonte E' una commedia Guarda Vabbè Cioè Che cazzo devo dire Che cazzo devo dire E' tutto bene No no Lei No no Lei rida No 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 Per me Ha risolgola la sua No ma io Io sento proprio Che Anin sta con noi Cioè Il spirito è qui con noi La spirito Ma Il spirito Oh, quella gata mi ha tirato Ma Tramo, ma tu c'eri quella sera Che eravamo io sicuri E poi io e Predator Su Verdask quando l'omba Mi ostò con 1700 persone Ma chi si ricorda No, mi sa che non c'eri Perché non è 3 di notte, zio tipo 3-4 di notte Ma che 3-4 anni fa, massimo è 2 anni fa Vabbè, ci sta, 2 anni fa Eravamo io e Predator sicuro Perché me lo disse Predator Oh, cichino da dietro, cichino da dietro Che l'omba ti ha ostato No, non c'era Eh, ti ho detto bocca No, è un boccione, un boccione Ah, vado, vado, vado che c'è un boccione Eh, ti ho detto, vado a te Wind Sì, guarda che io so fast, mi dispiace Ha bocciato un altro, normale Oh, ma possibile che stanno a morire tutti sopra? Se ci spara uno dal boccione E' uno che ci pusha Che cazzo può fare? No, ancora non ha ruggito Molto strano, te posso dire Molto, molto strano Guarda, non me lo aspettavo ancora Oh, ma questo che, che, che Che è questo? Oh, questo è Borton Ma quello era Borton No, ancora non ha ruggito Comunque, si è mantenuto Guarda, molto strano Oh, no, vabbè Ma, ma cosa? Vabbè Ah, silenzio di tomba No, no, vai C***o Ma invece lì davvero dice Ciao lì, t'amore mio Ma non sa che sto agitando un po' Just Neo Livello 20 Strano Davvero? Oh, io ci sono rimasto un po' male Perché Lui, praticamente, nel Games Week E' venuto nello stand nostro, no? Nello stand Grau Eh, giustamente, sai Ci ho parlato un po', l'ho salutato Ma lui all'inizio non mi ha riconosciuto Ho detto Ti ricordi l'upo bianco? Mi fa lui No, adesso non mi viene Come no? Ho detto Minchia, mi avevo stato con 1700 persone Non ti ricordi? Mi fa Forse ho capito Ho detto Guarda che era una notte Io stavo col cappuccio in testa Erano le 4 le notte Mi avevo stato con 1700 persone Vabbè, poi Mi ho fatto due chiacchiere Però non si ricordava Ci sono rimasto un po' Che non si ricordava Cioè Io mi ricordo tutto di tutti Più o meno Si ricorda di me al Games Week? Eh, quando vai, eh Giustamente la patata La ricordiamo subito La patata Allora, sono 4 Sul tetto? Sì, sì, sì 4 sono A terra 1? Madonna Ho fatto una brutta fine Farò proprio brutta Io c'ho 0 kill Con 1100 di danno Che arma è questa? Eh, chissà se si ricorderà Il prossimo Games Week Di me Queste di fuori Sopra le dobbiamo fa' Io prendo il lancio Io prendo il lancio, eh Io prendo il lancio, eh Dov'è a terra? Una fotografica Un po' di gischiando Sulle minne No Uno sotto Perché là? No, e chi è questo dietro? Che faceva questa camera qua sotto? Dai, però No way Ma guarda dov'era? Ah, mi scoccio questo sotto Guarda dov'era bro Ma puoi giocare così Fra? Ma che stai facendo là? Stai raccogliendo le cozze I funghi Ma ho fatto uno E non c'è seca nulla Boh, torna al lancio Ho vinto un 2 contro 4 Lo devi dire al mondo intero È pieno sopra Stanno sopra Jiu Jitsu Sì, sì, sì Andiamo a pushar L'ho visto Ho messo a terra Tranquillo Vatta a fare altri Ehi, altri non ci sono Ci devono sta Sono morti loro dall'altro lato Devono sta sotto Il mondo non si è riuscito a beccarlo All games Oh Minchia Dietro il condizionatore Oh, dai È qui È qui È qui GG a lui Fra È one shot però Ah, c'era l'amico dietro Peccato Fra Questo era bravo Sarà bravo questo Ha fatto una bella giocata Era tedesco Ma ha fatto una bella giocata Porca miseria Che giocata ha fatto Fra Io l'ho pure cercato di anticipare Perché l'ho hittato a sinistra Mi ha fatto il giro a destra Ma ha fatto lo stesso C'era la lampa Peccato Vabbè È andata male sta lobby Eh, ci sta Io puoi fare sempre il fenomeno Allora Avevo parlato di Paolo Wow, Paolo Io non lo conoscevo Poi ho scoperto dopo Chi fosse Ce l'avevamo nello stand di fronte Tutti andavano da Da sto Paolo Paolo Io Guardavo così Dicevo Chi è? Ce l'avevo di fronte Cioè io ho scioccato Amarizio di più Ma io neanche lo conoscevo Non lo sapevo Era il Lo stand dei Kulesh Che era di fronte al nostro Lo stand dei Kulesh Che poi là Si è presentata pure cosa Là Vabbè C'è stato un po' di gente Poi si è presentata anche Davide Rubino Che manco lui conoscevo Beh io ero un po' fuori dal mondo Dell'altra piattaforma Quindi Non li conoscevo tutti Poi dopo ho iniziato a conoscerli Che cazzo c'è in casa? Mamma C'è un dinosauro Che cazzo c'è? I dinosauri Beh la domenica Buonasera Ti rendi da te C'è lo zoo C'è lo zoo Giochiamo nella stessa stanza Ecco perché Ah E quanto è grande sta stanza? 200 200 200 metri quadri È come stadio Diego Armando Maradona Non è C'è 300 Cazzo di metri Vabbè Andiamo andiamo Mentre facevamo la foto Mi accarezzavo al braccio Chi ti accarezzavo al braccio? E ci allengiamo Dai ci allengiamo Ci allengiamo Ci allengiamo Chi è che ti accarezzavo al braccio? Meglio il braccio che il Kulesh No vabbè No mi dissocio Mi dissocio Non mi ricordo ancora quando io stavo streammando Non ci ho capito niente Stavo facendo le partite live lì al Games Week No Ogni due secondi C'è un bacco del genco Pieno Facevo una foto al secondo Mentre streammavo Ho fatto più foto mentre streammavo Che quando Che quando ero libero Perché io non c'ho piastre Che quando ero libero Francese L'ho killato Non posso farle bro Lì Non posso farle Perché C'ho il contratto qua Cioè di videogiochi Non posso farle lì Forse potrei fare una live normale Dove parlo Dove parlo Guarda Sono Toggedimo C'è più nessuno qua Possibile Ah sono Sì ma ci mancano Dai 100 per fare il lancio Trovati Dai vi lascia i soldi a questo carrello Vi lascia i soldi Fate il lancio Oh finalmente ho tirato via i francesi Ovvio mi serve Una foto Da due amministratori Però perché Non ti posso guardare di continuo In che senso Mi guardi tramite la foto Bella bella Allora serve una foto mia Sul comodino C'è una nave Stanno E un'altra foto mia Nel portafoglio Allora win Più 17 kill E uno della squadra Deve averne più di 10 Con Mi sono domando Se riesci a fare la canzone Il ballo del qua qua 3k In che senso Il ballo del qua qua Quando si vince la partita Devi fare il ballo del qua qua Oh mio dio Ma non ho capito Il fatto del ballo del qua qua Dai dai Che ci sto provando Già adesso A fare tante kill No L'elicottero No Che falle Chi è questo No L'RPG No Che schifo Dai Dai No Ma come l'RPG Dai Vabbè Ma come fai a farlo giocare Tutta la partita Con il ballo del qua qua Cioè la deve cantare lui Oh Ma non lo farà mai nessuno Ma posso fare io al massimo Questo è il ballo del qua qua Questo è il ballo del qua qua Eh ma poi non mi ricordo più come fa Questo è il ballo del qua qua Questo è il ballo del qua qua Questo è il ballo del qua qua Ma mi pusciano di qua Ma mi pusciano di qua Questo è il ballo del qua qua Io ti puscio di qua Questo è il ballo del qua qua Porco due Qua e là Vergognatevi tutte e due No Gannaggi il ballo del qua qua Sono morto pure io Ah deve avere lui l'audio Nelle cuffie Il ballo del qua qua Non la metto io Non la può avere lui La devo mettere io Il ballo del qua qua Ma poi come faccio a non farvi sentire Non la posso mettere live io Ma vaffanculo Se c'è su Spotify La posso mettere su Spotify Però non so se c'è Se la metto su Spotify Posso far sì Che la sento solo io E non voi Ecco ha fatto la clip Io sto già giocando con delle canzoni Nelle cuffie comunque Però sono con canzoni Che piacciono a me Ecco No Non lo posso mettere in live Cioè potrei metterlo solo io Per me praticamente Non lo posso mettere in live Sennò me bloccano Cioè dovrei sentirlo solo io No ho capito Mi devo mettere l'audio Nelle orecchie del ballo del qua qua Praticamente Ho capito bene Però in realtà Questa sarebbe la partita giusta Però per la challenge Sono già 14 Io sono già 14 No 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 Non ce credo Mega pizza Sempre così fa finire Riforma il tutto Sopra la casa mia Il tutto si riforma Allora Buonasera Simone Buona Bravo bravo Cascato Ehi Mi si blocca Mi si blocca Mi si blocca Beh Per detinata chi prima No Due a terra qui Dai Sono stati tutti e due Dove siete Io sono appena tornato Ero morto Siamo morti tutti Eravamo in volo Aspetta che c'ho il ballo del cocco Qua da me Dove è andato Allora 3.000 per 17 kg Uno del tuo team Deve avere 17 A terra Oh mio dio Mio dio Rimani in vita Frami push Oh questo è il ballo Di tuo nonno Allora Uno del tuo team Più vittoria e se riesce Voglio la canzone Il ballo del cocco E il ballato in live Come te lo ballo in live Cioè comunque Non la posso far sentire Faccio io un balletto Ma la metto io Nelle orecchie Con il telefono Guarda Me la metto io Con il telefono Nelle orecchie Non la posso far sentire live Bella Michele Fossi su un'altra piattaforma Potrei farlo Qua non la posso farlo Però se blocca la live Me la bloccano Per copyright E questo sono Che fai Mi spari a me Dai oh Quanto stiamo Oh uno di voi sta già a 10 Buono 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 Devo arrivare a 17 Dobbiamo fare la win C'è uno qui da me C'è uno qui da me Già di quasi a 17 La stavo cercando Già di fare Oh guarda questo Guarda là Sono a 16 Guarda là Sono a 16 Qua fuori Qua fuori Qua fuori Qua fuori Sono due Sono due Sono due Niente Oddio Devo ballare il ballo Vabbè sempre se fanno la vittoria Non è detto che facciamo la vittoria Questa partita Che è successo da voi Ho fatto due Ma non c'ho colpi Non c'ho colpi di nulla Oh Oh mio dio No No Da dove è uscito Confermate Confermate Che sei la mia 17esima Codo Gli altri stanno bene 17 14 11 4 Io mi preparo Inizio a prese Facciamo la win No Ho disattivato Porco due Grande bro C'era gente qui In casa qua eh Ma ha schillato uno da lì Mi ha schillato No 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 Ci pushano Ci pushano Sì Eh va a cagare Va a cagare Vai Ma questo citta Mi sa Zio Ma ha preso con la secondaria Ma sta cittando Che schifo No No però No però Dai No no è una pubblica È una pubblica È una pubblica Senza piastre T'ho fatto Vabbè ma c'è uno di loro Che sta cittando Zio Ma non è stata a contro Ma non gli dico niente Perché se sanno che c'è uno Che sta cittando Poi va a clic Se fanno condizionare Stiamo al punto che bisogna vincere la partita No ma non la vinciamo questa Non si vince Non si riesce a vincere Cazzo fai Fra Non perde sta partita Da l'est Farerà O male O si Pampa Uh buono Qualcun altro Ma c'è uno Che comunque cittava Peccato Secondo posto C'era uno Si chiama Nusto Nusto TV Una roba del genere Ma aspetta che lo vado a segnalare Però che schifo Manco l'hanno bannato È già a livello 500 Mo te lo dico subito Nei recenti Guarda c'eravamo quasi Da C'eravamo quasi C'eravamo quasi Per vincere Regà porca miseria Se vince Eccolo qua Nunuz TV Da PC Blocca subito Segnala Ah Nunuz Puttato Fra Nunuz TV Qua Nunuz TV Cittava bro Ho visto la visuale Mi ha agganciato In volo In automatico Con Con la mitraglietta Poi ha switchato Sull'arma primaria Il fucile d'assalto E mi ha agganciato Senza neanche vedermi Senza neanche vedermi Dietro a un muro Dentro prison Che ero dentro prison E lui era fuori È pure livello 500 Che schifo Manco ancora L'hanno bannato Vado in bagno Arrivo subito L'altro tentativo Non vale questa C'eravamo Ok Dai 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 Ma tu eravamo Arrivati a tanti Simone grazie del follow Benvenuto Arrivo subito Vado in bagno Preparate l'attrezzatura Vado in bagno 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 Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Oh, c'è un team di ragazze. Girl Spectre, Girl P-Pi... Vai, 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 RPG, vai, RPG, vai, RPG, vai... Oh, c'è un team di ragazzo. Fatemi un team di ragazzo. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Vado sul tetto. Dov'è? Ah, tetto, tetto. Ah, tetto, tetto, tetto proprio. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Oh, che è successo? Oh, che è successo? 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 Allora, vorrei tornare da te? Dai. Sappi che c'è stebbina qui che ci pusha tra poco, eh. Come fai a mirare con quel mirino? Uh. Da questa. Ah, va, ten, va. Mamma mia. Ah, ma stebbina è un ragazzo. Non è una ragazza. Hai visto che? Ah, che hai killato con quel coso. Ah, 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 ah. È brutto, però. Cioè, più che altro è... Credo sia non sia molto preciso. Poi dipende. No. Che è successo? Ho perso le mie armi. Ah, no. Ti trovi con quella roba lì? Sinceramente... Questa arma l'ha piccita tanto tempo fa. Allora, io sto usando l'arma. Più che altro per il mirino. È un po' strano. Sì, io non ho capito. Come c'ho piastre qua? Che hai fatto, samurai? Eh, me l'ho studiato da dietro, tipo qua. Oh, biscotto che buff. È sopra, è sopra. One shot. È vato tutto ora? No. È sopra, è sopra queste rocce. No! Sto fraccato, non c'avevo piastre. Mi dovevo piastrare. Ah! Sto sei fio, sto sei fio, raga. Ancora qua sta. Su, disgraziate. No. Lei è cim' del rap. No. Pure sto fraccato questo qua. Ma le chianed... So che non è. È qui sotto, è qui sotto dopo. Sai cosa sono le chianed invece? A me. Eh? A me, sei dicendo. Eh, sì, sì. Dile, ciao, ma. Eh. Sono bari? Sì, sei com'è. Eh, lo so, però era un dialetto che parlava mia nonna perché era di Carpino, quindi... Cioè, non è proprio bari bari, ma non so se è la stessa cosa per questo. Chiedevo. Sì, sì, si dice la stessa cosa. Ah, la stessa cosa. Poi c'è una cosa tipo... Madonna, che diceva di solito in dialetto? Li trozzolo. Li trozzolo. No, quello non lo so. Non lo sai quello, ok. Poi c'è una roba. Vabbè, sagghi. Sagghi che penso sia... Sali? No. 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 Eh beh, qualcosa di diverso se vanno per forza. L'altro. Hai fatto questo sopra? Un altro, un altro, un altro, un altro. Un altro. Un altro, un altro. Allora, le fatti. Vabbè ma quale dialetto Ho lasciato volo a me Oh non muore questo Non muore però Ho aperto qualcosa qua Dov'è? Dov'è? Penso sia sulla torre Comunque mi restate allo shop Oppure qualcuno può venire No 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 Non si è lontano Sto, sto bene La murale è sciata una mene Questa per il pad No niente niente Adios Adios Come on Me, me, me Sotto sotto qui Sotto sotto qui Arriva arriva Questa sono le riede Ce l'ho sotto di me Ce l'ho Vai fatto Eh ma non l'ho fatta là Eh 12 Dove arrivo a 17 Niente niente Prima tentativa è andato quindi Da noi le chianette Sono gli schiaffi E no Invece chianette Chianette Le chianelle Le chianette Tipo sarebbero le ciabatte Anche le papush E papush Le ciabatte sono estive Le papush sono quelle invernali Ah ecco la differenza Spera Spera Perché Ciro Mi ha detto la differenza Aspetta Le chianette Sono quelle estive Le papush Sono quelle invernali Così mi ha detto E papush Da tram Un tram Tutti Una papush Vabbè no Cioè alla fine Lo puoi dire Tutte e due Cioè sia Estive Che invernali Ok Li riedi Sono Li pallidi Li riedi Che che Diciamo che le papush Non è che sia Dialetto Ok Più le chiane Vabbè Ciabatte Sì Vabbè pure le ciabatte Però con un altro dialetto Ehm Da te Da te I ciabatte Allora Bella salva Buonasera Dai fate l'ultima Travontino Ma ti faccio Vedi l'XM No Mi sta fatta Di una roba Dai dai Fatta l'ultima Non va Lulu No Vado a dormire Buonanotte Ciao 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 Va bene Buonanotte ragazzi Bella gusto Buonasera Mi diceva Li riedi No non ho capito Li riedi Li riedi Sono i Li pallidi Li viriuddi Che Buonanotte È stato un piacere lupo Buonanotte Samurai Alla prossima Dai dai No non ho capito Che cosa vuol di Li riedi No Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio No 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 Ti ho parlato Ho detto Alla prossima Samurai Buonanotte Ti abbiamo parlato Tutti Sei l'unico Che non ci ha sentito A nessuno Di tutti quanti Tu hai pensato Alli riedi Tu ho capito Ma Li riedi In che dialetto Ma infatti Mi sa che non è Non è Pugliese No Non è Baresse Senti Che dialetto è Ciro Quello che hai scritto Scusa In Sicilia Si chiama No No Stiamo parlando Di altro Però Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Da No volevo capire Li riedi Roland Grazie al follo Benvenuto Li riedi Che dialetto Mi chiedevano Provincia di Taranto Ah Vabbè ma non è Baresse Ma non è Baresse Eh cosa sta Dicendo lei Va bene Vamonos Vamonos I due E azteco Come azteco Proviene Dai maia Proviene Vabbè Mi faccio Una puzzola Va Le 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 Zobuntini Sono quelle Di legno In che senso Allora No mi trovo In mezzo Tra Taranto E Brindisi Prondo Prondo E allora Abbiamo fatto una partita Che abbiamo vinto Ma era 12 Kill io Purtroppo Davide Era 12 Non mi ricordo Quanti tentativi Stamo a 2 Cioè ne mancano 2 1 Non mi ricordo Boh è finita una partita Quando tu hai detto Tenetemi il conto Abbiamo fatto mo La partita con la vittoria Ma stavo a 12 Prondo Solo che abbiamo un problema Che tramonte Samurai Sono dovuti andare via Ah ho capito A quale ti riferisci Ciro Allora L'upacchiotta Mi deve fare 10 kill Mi deve fare Sta partita Cioè Come se Come ne rubi tutte No no Io te li metto Faccio così Io te li metto One shot E tu li fai Cioè vale la pena Siamo 3 comunque Eh lo so che siamo 3 Buona molly Eh già mi viene qualcuno dietro Che vuoi da me Il zio Cicciofava Come cicciofava No Mi dissocio Mi stava dicendo Ma porca Bella Mariano Aspetta che Sono un attimo Con la puzzona Perciò sono senza webcam Eh Questa è un'altra La vedo Tu Perché l'ho vista Questa Anzi L'hai sentito Questo si abbassa pure No mi dissocio Italiani italiani Non sono molto contenti Ma no Ce l'ha rubato Ce l'ha rubato Non l'ha dato né a me Né a te Sotto c'è gente Sono senza Parazzo No Un biscotto Che è babco Uno fatto Io c'ho qualcosa Te dico che quel nome Non si deve fare Ancora cicciofava Oh no Dov'è? Dov'era? Ma dov'era camperato? Eh vabbè, killa me Attende, sono morto io Oh ma c'è uno sul tetto, chi lo sapeva? Oh my god Cristiano Ronaldo Oh one shot, non ce voglio crede L'ho spiegato l'altra volta Giuseppe Abbiamo fatto la discussione dei 20 minuti su sta roba Non ci voglio tornare sopra, sincero Non voglio rispiegare Ha fatto tutto lui, ha fatto comunque Cioè la cosa è iniziata da lui Quindi Non c'è niente più da dire Io Sono morto anche io, ho cerchionato alle spalle Come non trovo gli adesivi, bro? Buonasera Antonio Buttalo sto 1v, buttalo Un attimo lo ho bussato, regà Perciò levo la web un attimo Non lo posso fare, vedi il live Vediamo se mi cecchino di nuovo Oh my god, c'è uno qua però Ma quanti sono qua? È pieno qui eh Entro dentro casa io Mi devi astre, bro Madonna, hanno laserato Pure RPG Ti voglio 3 conti Vabbè c'è proprio Oh mio dio Come sono scappato In 3 sono comparsi dopo Che mi ha laggato Sì ma è una storia vecchia in realtà Non è nuova Una storia di mesi e mesi fa È una storia che va avanti da più di un anno No, non mi è scusa la finestra Morto No Sono le regole delle piattaforme Cioè su un'altra No Su un'altra piattaforma se vuoi Se vuoi fumare in live Qua no Sono le regole di meta Speriamo che non muore Febris Come si chiama lui Speriamo un'altra piattaforma Speriamo un'altra piattaforma Mando un nemico Attenzione in alto Tento passi Dove caccia stanno Ah ma guarda dove sono Mi è arrivato di tutto Mi è arrivato Allaghi Ma sono quattro qua sotto Che schifo Guarda lì qua Sono quattro Eh lo so ho visto la visuale Ho visto Lo so ce l'avevi due pure Erano quattro due alle spalle e due ce l'avevi davanti Vabbè a questo che chi li si è fatto No in teoria neanche quella elettronica posso Ne manco quella Ah dai No sta guarda ho preso l'aereo Ho preso con l'aereo ho preso le foglie Doveva succedere Ancora non era successo Doveva succedere Sto tornando Cazzo è sopra Madonna mia Se vado giù mi sa che c'è gente Vediamo Ma giù per forza devo andarci Adesso ancora sotto quei quattro No way Sono ancora nei bagni Quei quattro Ancora Si E' on E' on No I don't think Si posso Lo son morto Dai Dai la termite No però Dove E' sta sul boccione La miseria Allora doveva scendere Va capo E' schifo E' italiano Uno vi uno vi uno Però non c'ho l'arma a distanza No E' sarei già morto Ah ma sono morto Sicuro Non ci credo Bravissimo Eh ma perdo Perdo Eh non c'ho le piastre Se non l'avevo killato Peccato Non manco l'arma lunga Avevo Il coso Peccato Secondi Eh come siamo messi Questa E' andata E' andata Stavo a dieci io Allora ma la mandragata Ci deve stare Perché Ancora non l'avevo fatta In tutta la serata Eh Io una volta a sera Devo fare Peccato The last one Ultimo tentativo Grazie Giuseppe Peccato bro Peccato No se viene Bottarello Che doveva venire Anche prima Bott Però Eravamo 14 La divine Che sta facendo Allora Tutto ciò No guarda Chi ci sta Pipe Ma tu non hai nessuno Di evitare E Sto cercando di invita A bot Che doveva entrare Pure prima Però Non Non so che sta facendo Non sta venendo Che è del team Di tramonte Doveva entrare prima Ma eravamo Ovviamente già full Vediamo se avvengono Chi è Prondo C'è Prondo Chi è Prondo 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 Ciao Minus Ciao C'è Minus C'è Rieccomi Sto facendo un paio Di game Accordo Come sono andate Cristian Come sono andate Che è Pulito Sporco Sto facendo La live Allora Niente Sto facendo Abbiamo l'ultimo Tentativo Allora Mi serve Che uno di voi Fa 10 kill Mentre io ne faccio 17 Ok Prondo Non procederò male A qualche altra vittoria Con altri ragazzi Tipo una privata Non lo so Se non va a buon fine In caso vi faccio sapere Se ne posso ancora disponibile Va buono Ah se la fa la privata Salve salve Ciao 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 Arrivato pure Johnny Salve Ciao 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 Johnny Bello Attenzione perché è qua Allora C'era una privata Se volevate Ah ecco Non so se la ristartano Però non so se la ristartano Perché non avevano Tutti costa privata Tutti i secondi posti Eh Boh abbiamo fatto Un secondo posto Noi Però prima abbiamo vinto Se non vado errato Quante vittorie sto Wow 883 Sono quasi vicino Alle 900 I don't know No Privata ma non me va Che sta succedendo No no Ma infatti Manco la fanno più A posto Vai 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 A posto Eh è uscito È uscito Va bene va bene Aspetta Aspetta Sto entrando Un amico Attenzione 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 Devi aspettare Se no non fa niente Basta che Basta che non ruba le kill Che ho qua Uno deve fa 10 Io ne devo fa 17 Ultimo tentativo Ah ma puoi entrare Chiamano Veloce Prondo Falle entrare Prondo 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 lo chiamate Prondo Prondo Alessio Prondo Ah guarda uno Che deve fare Guarda Alla in secondo Che forse sta entrando Aspettate Che provo un attimo Entrare da Da Ascione Che mi invita Vedo in quanti sono Un attimo come siamo messi Che ora è intanto Oggi è a mezzanotte 24 Già Ma tutti che ci abbandonano Ma sti PDF Allora Allora vado a non cincischi Un attimo Un attimo Stiamo facendo qua la tombola Stanno giocando a carta forbi E sasso E sastici Cosa Mi sto facendo sotto le risate Credito Chiamalo Chiamalo Siamo Veloce Chiamalo Prondo Niente Non lo chiamano Dai dai Mi serve Fatemi sapere Se avete chiamato Eh si Mi sta invitando Solo che io non lo vedo online Come sto Dai fatelo Fatelo vedere qua Che adesso Se no faccio La raccomandata Mando la raccomandata Poi Oh no Voi Isodbear Isodbear Ciao Adriano Buonanotte Uè Isodbear Isodbear Vai Andiamo Vabbè Si starta Signore Si starta Vai vai Ultimo tentativo So da bere Mi serve che fai 10 kill Devi fai 10 kill Devi fai 10 kill Ma no Adriano Per PS4 I tuoi amici del pad Possono fare qualcosa Sai che sono scato Si Cioè Che te serve Officina del pad Si Quelli fa pad PS4 e PS5 Tutti e due La bariale La bariale Che vuol dire Buonasera Salvatore Pronto Si parte Ultimo tentativo Amma mia Poi Mi ordino Un kebab Quando è una capanna No No ma a quest'ora Non li fanno Però c'ho fame Regà Uè lupo Da quanto tempo Che non fai live Minchia Pare che è un anno Che uno strema Due giorni Allora Stesso su Su Instagram Giuseppe Officina del pad Ma anche su Facebook In realtà Si chiamano Officina del pad Così si chiamano Officina del pad Sia Instagram Che Facebook Boom Che botta Mi è arrivato A win Come si è messo Sto a 8.83 Ne abbiamo vinto Penso un 4.5 Stasera Bella Raffaele Eh Boh Non ce l'ho Sottomano Ce l'ho un attimo L'ho messo Un attimo Nel cassetto Perché quello C'ha due Due palette Sotto Io gioco a 4 In realtà Gioco a 3 Vabbè Però comunque Ne ho 4 Quello là Ha due palette Ce l'ho Un attimo Conservato Non ce l'ho Sotto mano Mi si la foto Comunque Mi si la foto Su Instagram Mi si la storia Tagli e si parte Dicono che Ho detto di Bari Si dice La Bari La Bari Ah la Bari Ah la Bari Penso sia così No al momento Non lo uso Fra perché mi servono Più palette Sotto Con due Non ci so Giocare Mi servono Quattro palette Che è successo Me lo dovrei Rimandare E me lo dovrebbero Mettere a 4 Andiamo Andiamo Oh Sì Beh c'è Sta l'arma Isod Baer Numero 1 Chi è che l'ha scritto Ma dimmi Te lo sei scritto Da solo No 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 Le lambe Tei cosi No Ce ne stava L'altro Arda lì Vabbè 1 a 0 Cioè 1 a 1 Palla al centro signore Si riparte Ma che l'ha scotato Chi ha fatto il lancio sul Sei dei pazzi Il lancio sul tetto Dai a terra a terra GG bro Morite Così proprio Così Morite così No Che l'ha fatto Sono di bere Ah ma ce l'hai qua Ce l'hai A terra No Non riesco a prenderlo Che sta dietro il buco Fatto So the bird Salve io So the bird Grande Grande Fli di colpi Ne ho 30 No way L'uscita No No Dai Saranno arrivando dal carrello Sotto eh Devo confermare Eh sì Ma Grazie mille Daniele Però purtroppo Non ci siamo qualificati Perché passavano i primi 40 Chi è che città Chi è che città Che città Che città Quello che è machillato Sì sto usando il nuovo L'XM Regà È buono Su Rebirth è buono Ah Dai si sono veramente chiusi Oh che è successo Ma vaffan bagno Mentre mi ha ceccinato Quello da sopra Vabbè dai Vabbè dai Non si sa neanche come mi ha preso In realtà non mi ha manco sparato addosso Vabbè Dici questo Che mi ha sparato a terra Poi sono morto lo stesso Vabbè Oh no Non mi morite È libero da teso Ale 10 kill Devi fare Non 0 Ale Ale Ma sempre 10 kill Ale Attiv si cheat No ma vaffan bagno Peccato Ah però questa era Non cittava Questa era normale Vabbè Era normale Quello non mi sembrava città Questo che è machillato Ti seguo parecchio Può darsi Daniele Può darsi Ma io non vedo l'ora Ma il 16 novembre Esce il warzone nuovo Eh purtroppo è andata Davide È andata È andata È andata Poi tramonte Cosa sono tutti Andati a dormire Quindi nulla Nulla E stavo dicendo Io non vedo l'ora Che esce il nuovo warzone Del 16 Hanno annunciato che esce E là Là si battaglia di brutto Perché Là torna il BR normale E non vedo l'ora Non vedo l'ora Perché Il BR a me piace di più Sinceramente Il battroio al normale E Là ce la vediamo Bella Non vedo l'ora Mappa nuova Sicuramente da imparare Quindi però Che è successo? Pronto? 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 Per averci trovato Pronto? Pronto Allora Stavo a dire Davide Grazie mille per le Allora Stavo dicendo Chissà com'è questo warzone Secondo me tanta roba Ormai Peggio di questo Non penso Perché ormai Questo l'hanno portato A un punto in cui Con caldera È diventato Mezza Mezza schifezza Secondo me Il nuovo Dove essere fatto bene Dicono che L'hanno Strutturato Più o meno In base a Com'era all'inizio Warzone Quando è uscito Eh quindi Vediamo Vediamo Che cancelleranno tutto Vero? No questo rimane Ne fanno uno nuovo Semplicemente Eh dico Ma con la nuova Non c'era più No 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 niente È un altro gioco Sì è un altro gioco Mamma mia Comunque Dicevo Grazie mille Davide per le 100 stelle Vediamo un po' Oh ma ha scritto Ezio Ti sei emozionato Oh So davvero So davvero Non parla neanche più Emozionato Non ce lo fa più Gli trevano le gambe Vabbè dai Dai vai Dai Attivi Attivo poi Il record A chi muore prima Il record A chi muore prima Ah boh Diamo contro Ma lo so cavoli No ma ha preso Il bazooka Ha preso il bazooka Ha preso il bazooka Quasi no a tre Brutte idea Mi racconto Ma niente Ma niente Li spacciamo tutti Li facciamo fuori Li spacchiamo Bravo Qua non ci ha capito niente Questo Ma che culo Mi sono trovato Davanti a lui Yes ragazzi Dovrebbe essere sempre gratuito Dovrebbe essere sempre Gratuito anche il warzone nuovo Il gioco no ovviamente Il gioco completo no Però warzone si Oh martina Grazie di cuore per Getto stelle Partina Grazie per il supporto Ciao Francesco Andiamo Ah è pieno sotto Secondo me non riesco a più L'arma Adesso mai killa questo Vedete Invece no No mina 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 No se da sola Via 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 Non c'è lì sopra Non c'è lì sopra Sono tre E' di ciucciano E' di ciucciano Quello Sparatelo E' di ciucciano Che cosa significa Rega Aless Del mio stesso paese Non riesco a capire Decidi quelli di ciucciano E' di ciucciano Quelle ciucciano E' di ciucciano Sto arrivando Ciucciano Sto arrivando Bella Francesco Ciucciano Che nome di socio Ma di no lo so Eh ha detto che è un altro ciucciano Ma chi è ciucciano Sì io il gioco completo Lo compro Rega ve lo porto Ve lo porto anche in live Ecco Ciucciano Eh sono tutti ciucciani Guarda come vado a fare Ciucciani pure io Guarda Oh Io me ne vado A fondo Basta Oh Porca miseria Questo Aiutatemi a fare i ciucciani Oh ma quanti sono i ciucciani Ah fammoo Vabbè aveva fatto fuori i ciucciani Eh ragazzi Asaf Mamma mia che è successo là sotto Alcuno mi ha scritto Lo dico Cristiano mi ha scritto Ma ciucciano che No Non risponde No no Non risponde I social Non risponde No Ne ha pushato uno qua I soldi come stiamo Abbiamo il lancio E volendo posso tornare dietro Hai visto che rubi le kill La Chi io Rubi le kill Vabbè Ma me ne sono reso conto Ma mi sembra strano I so Li piccioli Li piccioli Come si dice Bares Le terris Le terris Le terris Sto andando a fare le terris Le terris Sempre che sto andando a fare le vongole Ho speso le terris Bro Bella Marco Buonasera ragazzi Buonasera E' stata tutto Tutte le terris A terra Stano Vabbè Vi aspetto qua Ho fatto il lancio No No Cristiano Tremondo No E' L'altro Ciucciano Comune italiano Di 12.000 abitanti Di 12.000 Ah E' della campagna Dopo mi informo Non l'ho mai sentito 12.000 abitanti Praticamente E' piccolissimo Quelli che ci troviamo Davanti al rabbit Quelli che ci troviamo Neanche Neanche Come si chiama Chi ha Chi ha creato il paese Sa che esiste No E' crashata E' crashata Dice che è crashata Siamo rimasti due Mannaggia le chianede Eh si è crashata Eh ho visto Ho visto Ho visto che è crashata Ho visto Ho visto Rimasti due contro quattro Oh se vinciamo Due contro quattro Se vinciamo Se vinciamo Due contro quattro Fa il video per Ciucciano Sono i francesi qua Eh vabbè Dopo ti ribidiamo No ho sbagliato Il coltello Che si sta Vare sa Questo Gli ho azzeccato bene Mi busciano I ciuccianesi qua A terra un altro Bella Eh l'ultimo E' rimasto Nelle case di là No E' messo Guarda qua Arriva Buono Due piastre Mi servivano Giuste Giuste E' qua sotto Era qua E' andato Ma è sopra Uè Uè Ok Basta Fuori dalla lobby Francesi Fuori Che succede Ma tu una piastre Ce l'hai Una piastre Che non Non Diengo niente Qua Una piastre C'hai Una piastre Me Me Grazie Vado Hanno preso La baguetta Hanno preso Comunque Vado a Hanno preso Un Av Vamos a Hanno preso Sopra I 22 quarter Son 4 E poi E poi Dovano Spagnolo Anche qua Stanno tutti Su quel carrello Emo Vado là E gli do Una chianetta Un bacio Hanno preso Chiuso la porta Questi Che fa Freddo Ma quello ancora là dietro sta No 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 Lì 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 Biscotti Con i baffi Fuggo Non mi vengono a prendere questi No Sono scappati Mamma mia Quanta gente Presa Ci chiede Anna Di morire Assolutamente No Un bacchiotto Non si fa Chillare Lei deve stare qui Si deve guardare la partita Questa la dobbiamo vincere Che se la vinciamo Vieni in safe Vieni in safe Se la vinciamo Dopo va a fare il video Per tutto Ciucciano Questa la voglio vincere Te lo dico Ah è possibile Che c'ho la taglia a tre Uh M'hanno mirato Arrivando un nemico Madonna Quanti ce ne sono in volo Di piccioni I want you Wanna go Wanna go No Ciucciano non va a terra Stavo per andare a terra io C'è una piastra Stavo là Stavo là Eh lo so che stavo là Non andà Non andà No 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 Vinciamola 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 Resta qua Niente Ma perché di push È fine partita Che cazzo Mi chiamano le piastre Brody Chi so Hanno pur restato lì No way Mi chiamano le piastre Si è buttato i soldi No tanto non ha preso i soldi Si è buttato giù e basta I'obti Ok Amo zotto non mi dica essere stato quello sopra interessato? ci voglio crede ci voglio credere 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 aspettiamo un attimo signori quartetto di berry vediamo se entra se no startiamo allora fammi vedere un attimino cosa è successo lupo non ho capito perché l'aps al cross e il pc xbox no no non è che non ce l'hanno se tu vai qua se tu vai in account vedi crossplay Io non posso mettere Allora, allora, allora Fermi, non è vero Non è vero Cioè se io metterò al massimo non incontro quelli di Playstation Aspetta, aspetta C'è un motivo Se io metto su sì incontro anche quelli di Playstation Ma alla fine non ha senso Perché non è che tra Xbox e Playstation cambia qualcosa Io da PC se disattivo il cross play Adesso che non lo fai entrare No, e deve attivare il cross Eh no, lui per forza ce l'attivo Eh no, e ora stavo facendo una prova Avevo messo no, è da play lui? Sì Eh, per sbaglio l'avevo disattivato, rinvitalo Per sbaglio l'avevo tolto perché stavo provando una roba Allora, stavo dicendo Quando tu attivi e disattivi Quella roba alla da computer, non ti trova quelli con Playstation Però Se io lo lascio attivo mi trovo anche quelli con la play Se no, se lo disattivo trovo solo computer Xbox La stessa cosa penso sia quelli di Xbox Perché Sono tutti e due Microsoft Xbox che PC Quindi è la stessa cosa Da play tu se disattivi trovi solo Playstation Quello è il vantaggio Eh? Questo stavo spiegando Grazie mille per le C'è toste e le gioie Le win dedicata a Ciucciano Questa è da salvare sta partita Bella Michele, buonasera Niente, non va Vabbè Mi sa che dobbiamo entrare da lei Però se non entra da me Neanche io entro da lui Lei sbarra Non lo so Provo, provo Andiamo Cioè lui non entra Cioè lui non entra da me Non entro io da lui Sicuro Infatti non mi sta entrando Eh sto provando Ma non mi entra Cioè Abbiamo Abbiamo un problema Houston Abbiamo un problema Non mi entra neanche a me da lui Come dobbiamo fare? Non mi entra Guarda se io partecipo da te A parte che non mi fa neanche più partecipare Mi fa fare solo in vita È tutto molto brello No vabbè 230 stelle di Maurizio Che non diventi un vizio Grazie mille per le 230 E tutto molto bello Signori abbiamo un problema Non so come fare Se no mi devi provare a invitare Ma non penso che funzioni lo stesso Aspettiamo 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 Dai che facciamo Facciamo Pasqua e anche Natale Dai Hai clippato l'endgame Eh ma Dopo ci penso un attimino Quasi quasi Aspetta ma invita Dove provo andata lei? Mi sa che Devo salvarmi tutta la partita Wow Finalmente Stiamo qua So do bene Aspett Wow Ok A posto A posto Vamonos Sì Il 16 novembre Giocava Micah non gioca più Senza far nomi Il tipo è legit Chi? Chi? Ma quello di prima Che mi dicevi prima No essere legit è legit Per carità di Dio Non ho mai detto niente Di quella genere là Non ho mai detto niente Non ho mai detto niente Se ha bugato tutto cosa Ha bugato La patta e trombata Vediamo un po' se va adesso La play è quella l'unica cosa giusta Fra che tu puoi giocare Cioè puoi disattivarlo E giochi solamente con chi è da play Quindi non ti becchi i fenomeni da computer Non te becchi Ma Mixbox Ti dico alla fine la stessa cosa Quindi che ti frega Sempre console L'unica cosa Non becchi quelli da pc Ecco E' sempre bello sentirsi dire Da una donna Entra dentro di me No ma ti so No Così a freddo Non mi aspettavo Un commento del G Ci stanno anche là i fenomeni Sì Fra ma Vuoi mettere comunque Console contro pc Ok Se tu vuoi disattivare Il fatto di beccare solo Come si chiama Gente capito Da console E' ottimo Se tu Se tu giochi solo da console E' top Cioè becchi quegli altri da console Alla fine giocano le tue stesse cose Poi sei più bravo Amen Per dire Però non devo parlare Hai sentito I francesi sono forti Si sta Aspetta proviamo Ma strano che non entrava da me Comunque Comunque Gioco con vs4 Sembra la moviola di Bruno La vs4 ormai è diventata Un po' Besoleta Allora esco Aspetta Esci Sono io Mo la invito Aspetta Ah vedi che mossa La invito a me Lei entra Non capite male Francesi si Ci sono molti forti Alcuni sono Cioè in realtà Ci stanno tipo 2-3 team Che si sono qualificati Mo per il mondiale Dei francesi Sono forti Alcuni di loro Sono bravi bravi a giocare Hanno vinto vari tornei Sono forti A giocare Giocano forti Oh l'hanno vinto Però Non sto capendo Se riesci ad entrare O non riesci ad entrare L'hanno vinto di nuovo Però l'hanno vinto Pure no L'hanno vinto Vabbè L'hanno ovviamente Sì Magari useranno Qualcosa Probabilmente Ma non tutti Cioè quelli che poi Se vanno a giocare al mondiale Devono Penso siano tutti legit Credo Ok Riesci ad entrare Mo Ma che sta succedendo Allora un problema suo Ah aspetta sta entrando Ok ok Datele in seconda Sta entrando Sì Noi siamo bloccati Eccomi Vediamo se riusciamo A quagliare sta partita Dai In teoria Ce l'abbiamo fatta Forse Ma ma chi è lost? Io Di nuovo Ah ok Tutto sto casino Alla fine sono io lost Gio Gio Beh Se l'ha trovato In teoria Ah no Ok è andato Andato In pratica Ce l'abbiamo fatta Allora Da PS5 A PS4 Cioè da PS4 A PS5 Beh il vantaggio c'è Nel senso che Dipende Se hai la PS4 Pro Non lo noti tanto Però calcola che la PS5 Gira a 120 fps Quindi Va molto meglio Io l'ho provata Avevo la PS4 La prima Quando passai a PS5 Era un altro mondo Il gioco era più fluido Mi caricava subito In mappa grande Figurati Mi caricava subito Le Le texture La roba a terra No Non ci credo Chi c'è in partita Chi c'è in partita Un mio vecchio Eh questo giocava con me Su GTA Non ci voglio credere Lui l'ho riconosciuto Anche dalla voce Ira nera No Signori Chi è che seguiva Su GTA Avete presente Che c'era quello Che era il proprietario Del paradise Che giocava con me Che faceva la voce Del No No Vabbè Ma che c'è fa in partita Contro No Vabbè Impazziva Che ci fa in partita Contro E' con me E' con me contro Perché l'ho Chilato Ira nera E poi ho sentito la voce Perché parlava Nel frattempo E' sua la voce E' lui E' lui Ma xbox Per suo Dipende L'ultima E' fatto bene E' fatto C'è la stessa Della plessita E' fare Dell'ultima Sesso Lo terramo Che è successo No No Dicono queste cose Non z Dicono Eh lo so Che è lui Regalo Lo so Lo so Lo so L'ho riconosciuto Dalla voce Quando l'ho Killato Dov'è 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 No Mi ha fatto Lui Mi ha fatto Lui No Chi è questo Un altro team Ah Chissà Dov'è Lo devo Beccare Eccovi Vabbè Sono morto Sono morto Già una volta L'ho visto E' qua sopra No Mi butto No Ho fatto una brutta fine 0-2 Vabbè Moro Recupero Terra Terra 1 Può Che è La Dai Così Mi faccio Un'arma Qua No Cecchino Con un colpo Ma cosa Oh Chi è Scendi Chi ha aperto La porta Sotto Sia da difficile Sta partita Senza lancio Si è trovato Un'arma giusta A terra Come si botta Lì sono Uno mi ha detto Sti bot Eh lo so Lo so Che lui Lo so Sto cercando Dove è in partita Non lo trovo Quello è sempre L'amico Dico Ti è buttato giù Guarda Così Ah Ecco il bersaglio Per l'attacco aereo Qui Philippe 3 Attacco in corso Archi sono In archi Ah Fatti due qua sotto Non c'è sta lui Non c'è sta più qua Cazzo Mi seguono in due E niente Mi stanno pushando In tre Perché sanno Che uno a uno Non mi riescono a fa Oh ma L'OTS è diventato Fortissimo Che gli è successo Eh si sta squagliando Ma che cazzo è possibile Fammi fare una foto a sto coso Che devastante è diventato Ma che cazzo Ma what the fuck Bro Buonanotte Daniele Buonanotte a domani Ah Ma perché No Bella Immortale Buonasera Eh avete visto Eh sarà il progetto che è buggato Regà ma fa maure E' un bot Ma ha detto che è solo un bot Peccato che t'ho killato Già due tre volte Ce l'hanno con me questi E' un bot no Raccato Ragazzi ce l'hanno proprio con me Sono cazzati con me Buonanotte Lorenzo Si raga praticamente non c'ha la canna C'ha solo il silenziatore Come morite che io sono la cacca Siamo morti tutti Capi nera Annato Sto grimone Nooo Paranamnese Alfiere Nooo Mannaggia la misera Ma ci stai che stai Ma ci stai qua Guarda Guarda cosa succede Guarda Guarda Qua sta succedendo Comunque è piena di italiani Salobi Zeppa Ma un sacco di loro Che poi me Me conoscono Quelli che Ci sono Quelli che me insultano E quelli che invece M'hanno riconosciuto E sono contento Non lo so L'ho trovata a terra Zio Questa qua L'ho trovata a terra Scioglie Fa dei danni allucinanti Sparo le minicicce Sparo Che c'è E' un'altra No Eh lo so Sto cercando di fightarli ma sono la cacca Poi c'ho un botto dei soldi Zio pera ma Ci sta un'arma decente Mi tira l'Uav Oddio No ma è troppo forte sta cosa È devastante Una pera Sì a prenderla Ma è stato io Grazie L'abbiamo sopra Sopra il tetto Vediamo se si è butta Cattolta non si è butta È rimasto sopra Sì È ancora sopra È morto è morto è morto è morto è morto Come on vai 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 Uuuuuh Faio 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 Mi Faio Ma 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 Faio Ma Ma non riesco a salvare Sono morto sicuro Sono morto però peccato Ma do secondi Ma stavano tutti già dall'altro lato Però mi sono fatto via fuori il team 20 bombe Porca miseria Ma io ho un vettura Non con me Peccato E la macchina saldò Assurdo No io mo' provo a farlo il set No way Io mo' provo a farlo rega il set Io lo trovo da terra questa qua Non era mia E l'OTS rega L'OTS L'OTS 9 rega Ma devastante No io mi devo fare una classe un attimo così rega Perché eccolo qua Allora Ah era senza Era così era Pum Praticamente a palloncino E che gli metti al posto De quel coso Vabbè quello non c'aveva il calcio Aveva Aveva Era se col calcio rimosso tipo no Però Vabbè facciamo col calcio Era così rega Era settato tipo così Era settato eh Io lo preferisco col calcio Sincero Però vabbè Pur senza Quel coso lì Fammi vedere un attimo Allora Allora vediamo un attimo Era settato Come vi faccio vedere Allora il settaggio era così rega Cioè era sto coso piccolino qua Guarda Cioè Penso sia uguale Eccomi Stavo vedendo un attimo il settaggio dell'OTS Perché è una roba allucinante Quello che è successo E mo Ho fatto 20 kill Vabbè Ma facciamo Vai Allora io mo lo provo Senza il calcio dietro Io l'ho sempre usato col calcio Perché era 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 più stabile Era Si gestiva meglio Però Peccato Allora Secondo te com'era settato l'OTS Avevo provato a farlo così rega Il settaggio così Vediamo com'è Ho fatto meglio domani Poi fammi vedere il 7 che lo copio Boh Io ho provato a farlo così Penso sia così più o meno eh Penso sia così È l'unica 40 colpi Il silenziatore Riflettore Calcio rimosso Non c'ho il comando in chat A parte che non l'ho usato parecchio Salvatore Adesso provo anche lo swish Com'è Ma avevo trovato un card a terra Stavo usando il card a terra Mi sembrava pure quello buono L'hanno potenziato La faccio Cazzo Cioè è devastante Però mi sono tirato 20 bombe Vai ci riproviamo Di nulla Di nulla Salvatore Dici serpent Invece di quella Dici serpent invece di quella Allora Giuseppe Buonasera Pezzo di fa No Lo sai che il luogone Non riesco ad abbandonarlo Grande Marco Dai dai Tiriamo dritto Finale 9 di mattino Ecco mi sono spiaccicato Dicevo No scherzo Però fino alle 2 Dai ci sono magari E più velocità a mirare Vediamo mo come mi trovo Se no lo cambio un pochettino Vediamo come mi trovo così Vabbè E' vero Anche Anche Lorenzo Però Devi avere anche l'arma Cioè se no Cioè se quell'arma Sparava pallini Di carta Non Non facevi le 20 Eeeh Gpmo Milano Ho capito Chiaro Chiaro Gpmo Milano Dove andiamo? Where we can go Vai 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 Mamma mia Wow Uno ho tirato via Altro francese Salghier Si è già incazzato Ma avrei stemmiato contro Eh vabbè Dona quanta gente c'è Oh Che casino ogni volta Eh 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 Oh Ah Eeeh Eeeh Mi sono arrivati in due Quando guarda Arriva Tutututututututututututututu Porca di quella miseriaccia Eh vabbè a nina terra nina terra stai arrestando qualcuno stai arrestando tipo ah dai ha preso anche a me la granata eh ma sono morto è finita senza piastre oh questo è da dietro no il francis ancora basta ma cambiate ma cambiate gioco si vabbè mannaccia bella partita questa bella simone buona sega no mi dissocio no ma sta lobby è piena di francesi controllo sembra il superstore di verdans guarda ma che è so da bere so da bere ha avuto una bella botta ma basta io torno là assolutamente vanno killati usare pendino hard poi che è successo ancora è successo in testa questo da dove è uscito fuggì 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 bro l'ho visto eh l'ho visto anche io one shot eh questo era bravino è arrivato un altro no vabbè siamo morti tutti no ma questa dove è uscito eh c'hanno le armi c'hanno le armi c'hanno le armi raga madonna c'è ancora gente qua assurdo bravo tirate la torva non so se lancio il safe boh ci provo devo provare la classe no ma che siamo tutti morti ma che le 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 no le brose no ma che è successo la panna sta qua qua giù qua giù proprio ah è a faccia di zio madonna che sberla si è preso in faccia quello ecco muiamo dal nuovo warzone vorrei che non facessero stronzate con gli aggiornamenti porca miseria cioè se la mappa è quella che hanno inventato basta non fate gagate come hanno fatto poi che con verdask l'hanno distrutto in 3.000 modi fin quando poi l'hanno addirittura tolta non devono far queste stronzate ah ha sbagliato colpo no vena la vieni no davvero siete morti finita la partita comunque col serpente mi sa che è più veloce mira un po' lento questo no mi pingano sono morto torre di comunicazione attiva trasmettano la vostra posizione 5 l'hanno addirittura approvvigionamento marcato no ma è ogni volta mannaggia mannaggia le brioche ma no vabbè chi si è vista la kill mia col cecchino io come fai eh bu eh vabbè è tutto chiaro dove sto partimi partimi ah sta troppa gente qua su contro oh eh la madonna sono qua 80 lì vabbè raga eh bella lobby questa bella lobby tostarella che rinforzzi solo in arrivo che rinforzi solo in arrivo bombardamento di precisione nemico giù 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 oh mi ha piaciuto come fa no perché non ce la volevi piastre se no te spaccava te facevo così te facevo oh che stava male comunque fai schifo come di zecco sei una bestia prima lo usavo dipende ma da periodi in realtà col cecchino ma da periodi ci sono il momento in cui sono in forma che lo so usare poi ci sono un periodo in cui faccio cagare ero bravo all'epoca sul vecchio call of duty multigiocatore sapevo fare le cecchinate pure senza mirare poi ho perso la mano e la giovele buonanotte ma io ho le armi là sotto zio beh dai prendi questi me ne ha mi ha pegato uno sopra che è fatto ma ce l'ha ridere no ah l'ho visto poi mi viene da ridere no ah era sempre lui il GG ha fatto una bella mossa ha fatto il giro è sempre lui ma ha girato in un attimo peccato provo a mettere la serpente comunque come impugnatura su quello là perché mi dava un po' lento rispetto a quell'altro che avevo trovato da terra quindi però è bello porca miseria messo col cecchino così quella cosa piccolina fa male ma fa proprio male è crashata di nuovo il ventilatore è crashata di nuovo ma l'ho rinvitata vediamo un attimino peccato tutto buonanotte Marco che ora è ma pure io penso quasi quasi regà faccio l'ultima eh facciamo l'ultima faccio l'ultima vado anch'io dai ho pure elastico è l'ultima vediamo un attimino provato a ambitare a Nin e poi si va tutti a Nin lupo io al polo nord sto a lupo come sei al polo nord sta a me nel polo nord come se sei al polo nord in Finlandia in Finlandia stai poi sono già le due e mezza due e mezza di cosa però di pomeriggio no notte no è solo un'ora avanti è solo un'ora avanti mi sembra strano cioè qua sono le luna e mezza ah ah ha fatto controllo aggiornamenti perciò buonanotte Giuseppe eppure noi fanno l'ultimo e vado anch'io sta facendo un attimo controllo aggiornamenti dai dai ti stiamo aspettando per l'ultima e poi andiamo lì è sempre notte mi sta vedi è sempre notte in Finlandia no così non lo sento più sei mesi sei mesi eh sei mesi sei mesi ci sono i sei mesi dove è tutto giorno e i sei mesi dove è tutto notte sì e ma mo quindi sono le due e mezza di notte sì ora è notte eh no ma dico c'è notte nel senso sono le due e mezza sì eh ma scusi ho solo un'ora di differenza da noi scusi qua è l'una e mezza dove stai pensavo di più lui è in Finlandia io sto a Napoli cioè è un'ora solo avanti pensavo ha detto che sta chiudendo e riaprendo è un attimo de pazienza scusa facendo là vabbè lavorerà accudisce le foche spacciando lì della giuga le foche ho aperto la piazza in mezzo alla neve no mi dissocio no no giustamente neve a terra neve capito neve sopra neve sotto ha aperto la piazza della neve mi dissocio mi dissocio mi dissocio assolutamente no e accudisce un po' le foche i pinguini si ma no aspetta che ti sento basso che hai detto mi dissocio hanno scritto si p***a neve che hai fatto il mio quanto c'hai 2.11 2.11 2.11 e in realtà non è manco veritiero perché dovrei dovrei avere di più però vabbè c'ho 2.11 lì c'è una buona università che università c'è l'università della neve allora vediamo ha detto invita vediamo è tornata allora posso anche togliere no ho sbagliato ho sbagliato invito non ti fa invitare mi dice sussurro mi dice che è offline perché lupo però la richiesta non me l'ha accettata sai che se ci hanno pure le tue no non solo di ciuccia vedi che per la richiesta 50 euro su paypal bonifico ah ecco è entrata ok ah lui 50 euro su paypal accetto la richiesta i panzerotti su uno allora anche i panzerotti accetto panzerotti croc quello che è buono un po' di neve no no un po' di neve no gli manca il ghiaccio per fare il mojito mi dicono non ti manca il ghiaccio per fare il mojito mi dicono aspetta che devo caricarla le billi le devi mettere fuori le devi mettere nella piazza le devi mettere allora arrivo regate un attimo carica faccio un forco parà 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 un uff guarda parà 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 pari Lì se fai due docce all'aperto Rischi di farti male No vabbè all'aperto All'almeno d'inverno La docce si fa ciucciano E vabbè questo è un drago Luca brutto 84 Oh me fa male il ginocchio Mi serve un po' di neve Non c'è la neve mo? Ah solo quello mi puoi dare No no dalle a Dunnin Servono a Nanni a Dunnin Buonasera Fabrizio Vedi se interessano a Dunnin No mi hai fatto No mi voglio provare Andiamo Ah beh che fai control Te ne aprivi di nuovo Guarda l'hash c'è 80 persone Non ti diverti a morire a control Va bene Questo dov'è? Questo dov'è? Fuori? Su non ci sto capendo C'e ne è una pinga un qua Va 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 va, guarda dopo me, guarda questo dov'è, Totoro Scorso Questi li ho giocato in casa Bella Se decidi di andare a terra No, mi dissocio L'ho sedito anch'io Quella è difficile, ragazzi Quella è di giucci Sì, quella è difficile Aia Assurdo quello sta succedendo Nooo, mi dissocio Meno male che non si è sentito benissimo Ho fatto quello e mi ha detto che siamo dei tu, tu, tu puntini di me Ma la gente sta male comunque Se facesse fare una visita Al policlinico Nooo 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 Non scendete a contro Cambiamo un attimo Mamma mia come sono tossici sti italiani di contro Nooo 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 Il sarda Un po' di vittoria l'abbiamo fatta Abbiamo fatto anche due risate E' nulla Vado 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 a dormire ragazzi Ci becchiamo Domani Penso sempre domani sera verso le 9 o 9 e mezza Va bene laio, un bacione a tutti lega Buonanotte A domani Grazie a tutti